Tempi supplementari puntata numero 145, eccoci qua presenti perché 5 anni, siamo al quinto anno, siamo ormai a 145 puntate, non è che do i numeri da quest'anno che ne abbiamo fatte così tante da questa stagione, nel quinto anno che siamo dentro praticamente le ho contate 145, forse posso sbagliarne una ma sarà difficile anche quella. Siamo nella stagione 2019-2020, eccoci pronti ancora a tornare con il nostro calcio dalla Serie D alla seconda categoria, anche questa sera tante immagini come di consueto, lo ripeto sempre, partendo dalla Serie D nel girone B con le immagini della Virtus Bergamo, ma anche nel girone D con le immagini del Breno che ieri è stato raggiunto al 91esimo, ha buttato via purtroppo una vittoria importantissima per la formazione del Breno. I temi del campionato importantissimi, la cosa fondamentale per Luca Carminati, Vertovese altro KNO, altro KNO, Albino Gandino pareggio che tanti punti di domanda, poi lo vediamo che è arrivato il 94esimo pareggio, dunque lo chiederemo anche al nostro ospite questa sera che sarà qua con noi fra poco. Capolista Valanga perché il Giussano seppellisce, l'Ulginatese 5-0 il risultato. Eccellenza girone C, Tognazzi affonda, Baccanelli salva il Darfo e poi vedremo le immagini, Carmine hai già visto qualcosa dell'eroe Tognazzi? Mi dispiace per Tognazzi, dopo si sta guardando perché c'ha minato lì di là, qualcosina. Rivediamo di nuovo i temi, eccoli qua, cambia la vetta, ma il tempo protagonista, il Valcareppi non ha giocato, la Berizzolese ha espugnato Telgate, sembra che comunque Pala sia confermato lo stesso a Telgate, nonostante questo Telgate non segna mai, e ha perso un caso con la Berizzolese, la Berizzolese ora in testa classifica. Promozione C, Praunghese, rabbia di Coppa, ma anche là, rabbia di Coppa perché risponde 4-0 a Covo dopo essere stata eliminata nei minuti e nel recupero soprattutto a Villongo in Coppa. Casazza, Manita, San Paolo d'Argon, Gavarnese, attenzione perché insomma, abbiamo citato bene la Gavarnese, brava la Gavarnese, eccetera, è un punto sopra i play-out. Prima categoria, Girone F, Almè e Chiloferma, 7 punti di vantaggio, l'Atletica Falco perché ha battuto l'Atletico Sarnico, Virtus Lover sempre più sotto, è vero quei due giochi qua, eh, Atletica Falco, Virtus Lover più sotto perché c'è nato ieri, c'è nato sotto, mi se la ghigna sotto. Sono delle sottigliezze. Ma che non hai fatto, stavi già andando sbagliato a scrivere, ho detto. Manca la seconda, Felice, ridami i temi, che manca la seconda categoria, eccola qua, Selvino e Rovetta si annullano, ne approfittano sopra che vincendo l'Effe aggancia in Betta il Selvino. La Gandinese attacco mitraglia, tre gol anche ieri, parallelo ancora a K.O. Di questo parleremo soprattutto dopo, adesso partiremo con la serie D. Ciao Luca Carminati e Paolo Vincinelli, ciao buonasera a tutti. La poltrona nera affronta fra poco per Roberto Bogazzi, che è il direttore generale della formazione dell'Albino Gandino, sarà con noi dall'Eccellenza Inapoglia. Si può dire nera, sì. Nera. È nera? È nero azzurro. È nero azzurro. L'Atalanta, sì. Sono i colori dell'Atalanta. Sì, ieri dimentichiamo. Beh, c'è chi ha giocato meglio, giusto che abbia vinto il Cagliari ieri. Non siete tristi. A Bergamo, non siamo tristi. Beh, magari una volta, se avevamo questa classifica, era oro. Bisogna ricordarci da dove siamo partiti, eh, grande Luca Carminati. Allora, noi questa sera parleremo. Subito, soprattutto prima della serie D, Luca, te la voglio far fare, perché è strano. La Praunghese, che aveva preso il passo, ha perso un Coppa, c'era, magari, di allora, non è ugualita del tutto. 4-0 di Covo, penso che abbia anche tanto, tanto. Onestamente... Due gol di Torri, Fogaroli. Mi ha stupito più che altro il risultato roboante, anche se abbiamo commentato dei recuperi, mi sembra che subisca tanti gol a Juventina. E in quantia, sì. Probabilmente il mister De Manuel ha da sistemare un attimo il riporto difensivo, perché comunque è un'ottima squadra, una costituzione di una squadra. Però ha dimostrato, la Praunghese ha dimostrato che su campo vero, già, adesso si sta quadrando anche a Praunghese, ma su campo vero, questo ha giocato ieri e fa dei risultati importanti. Poi la classifica comincia a cambiare veramente prospettiva. Se penso che solo un mese fa eravamo qua a dire... Adesso la vedi, a tre punti della vetta, Lazzano deve recuperare. Vedi la continuità dei risultati, ha portato di punto in bianco i sacrifici fatti dal presidente e dal nostro direttore sportivo che è stato... Avevo paura che si rompesse qualcosa con la sconfitta di Coppa. Magari sai, ancora qualche... Sai, perché a Praunghese fai la svelta accendere l'entusiasmo, come fai la svelta magari accendere un po' di... Ma però comunque io concordo... Queste sono addirittura delle immagini che poi vedremo dopo e parleremo. Concordo sul fatto... Concordo sul fatto che... Questo è un gran gol di Torri. Concordo sul fatto che hanno fatto costruire una grande squadra. Quindi mi stupiva il fatto che non facessero nulla io. Cioè, è una squadra che comunque hanno messo a mano portafoglio, hanno fatto sacrificio, hanno preso giocatori veramente importanti, tipo questo, tipo... Ma cosa può essere scattato? Perché stiamo parlando di una squadra che ha completamente cambiato il registro delle prestazioni. E adesso quello che sta facendo? Secondo me... Sì, sicuramente adesso è la vera... Poi fra due o tre settimane avremo Stori con noi che ha confermato... Alla tua domanda rispondo... Secondo me ha messo ognuno al proprio ruolo. Secondo me ha fatto due o tre spostamenti da bravo allenatore che ha capito che qualcuno doveva fare il suo ruolo. E la squadra ha trovato una geometria perché di punto in bianco questa squadra qua è partita. Perché è stata una cosa improvvisa. Questo qua... Probabilmente bastava solo trovare la quadra, come si dice sempre. Era prima. Il calcio... Era prima che... Probabilmente non riusciva a trovare la quadra Giovanni. Mi stupiva prima perché era prima che non riusciva a capire... Ha trovato la quadra e adesso... sta facendo quello che deve fare. È lungo, il campionato è lungo però. Fiammarelli e Cesani adesso si possono un po'... Possono fare un po' le loro mangiate tranquillamente senza padrini d'animo, senza pressioni prime nostre che noi giustamente siamo qua per opinionare le giornate delle squadre e i giocatori. Però adesso bisogna dire che sta uscendo il lavoro fatto da Bruno Cesani. La partita ieri era importante per questo anche perché arrivava in una sconfitta di Coppa. No, ieri gli hanno passato le aria. E prima della Serie D, Paolo, lo strano, lo strano, è che l'anno scorso la promuvese a Villongo, l'ultima giornata di campionato, si giocava... Aia! Si giocava il play-out o la salvezza diretta, perdeva 2-1 al 89, la ribaltata ha vinto 3-2. È strano che in Coppa vinceva 2-1 all'89... È una domanda o... Villongo la ribaltata ha vinto 3-2. No, perché il calcio può essere strano. Eh beh, sì, è strano. Non penso che ci sia stato qualcosa... Può essere una coincidenza, può non essere una coincidenza, però... Un ringraziamento, anche perché in Coppa la pranguese non potrebbe vincere la Coppa. Bene, il calcio, come nella vita, c'è sempre un do-de-des, però non so se sia questo il caso, ma sarebbe anche una cosa, secondo me, normale e non scandalosa. Lo dico senza... Sì, stesso minuciaggio, più di altro è quello, il minuciaggio, stesso risultato, eccetera. E torno a ripetere, la Coppa era importante. Ti provo che Arnaldo vada veramente a... Vabbè, lo sottolineo, perché magari non lo sottolinea nessuno, ma... Per carità. Cioè, perché se finiva 3-0 per il Villongo, eccetera, non succedeva niente, o per la pranguese. Però stesso risultato e stesso tutto nei minuti finali è successa la cosa. Al contrario, praticamente, è quello che è stato un po', per chi ha guardato i numeri, è stato un po' scalpore, se vogliamo. Torno a ripetere, io spero, perché una di queste due squadre potrebbero anche portare a casa la Coppa, e di Bergamaschi abbiamo Villongo e Lazzano di Castellani, che non sorprende solo un campionato, Luca, ma sorprende, vuol dire che è una conferma, è una squadra quadrata, perché vai avanti in Coppa, vai avanti in campionato, sarai giovane, sarai neopromossa, quello che vuoi, ma vuol dire che cosa ce l'hai. In questo momento lo sta facendo bene la sua squadra. Non ha giocato ieri, sappiamo che il problema del giocatore, del San Giovanni Bianco, Ferrari, che purtroppo ha avuto un incidente grave, anche lui come per Vieni, un bocca al lupo grande, di rimettersi subito in gioco, è stato operato, speriamo che sia fuori pericolo, esca anche lui di pericolo questo giocatore, la partita lì è stata sospesa per quello. Andiamo con la Serie D, dai, apriamo il tema della Serie D, col Girone B, che in settimana ha vissuto un turno di campionato, dunque la classifica si è mossa parecchio in questi sette giorni, lo Scanzaro-Sciate adesso è terzo, ha un punto dalla seconda e a quattro, e domenica c'è processo Scanzaro-Sciate, partita importantissima, perché lo Scanzaro non c'ha nulla da perdere, Castellanzio o meno. Castellanzio-Vidavale, questi sono i risultati che stanno arrivando, chiedo subito a Paolo così se vede delle sorprese, con Mantua che perdeva 2-0. Sì, bene, nell'altro girone di cui ci occuperemo a breve, sicuramente il Mantua ha rischiato di perdere la sua prima partita di campionato quest'anno, però nel Girone B sicuramente fa scalpore rispetto alle sensazioni dell'estate, non tanto la vittoria dello Scanzaro, ma la situazione di classifica, che vede lo Scanzaro veramente nelle zone nobilissime della classifica, la migliore delle Bergamasche, non credo che anche il più ottimista dei tifosi potesse pronosticare un inizio di stagione così brillante. 10 partite, un terzo di campionato se ne è già andato, e direi che se salvezza doveva essere, salvezza sicuramente sarà, perché con tutti gli scongiuri che si vogliono fare, però mi pare una squadra completamente trasformata, e poi sai, l'entusiasmo porta anche entusiasmo e porta anche i risultati. Ieri è caduta la Tritium, che insomma, piuttosto sorprendentemente contro l'Arconatese, ma il risultato forse più negativo, se così vogliamo trovarlo, è quello della Vitus Bergamo-Ciserano o Ciserano-Bergamo, perché in casa contro l'ultima in classifica tu la vittoria la devi portare a casa. Ma almeno l'obbligo morale ce l'hai, quella di vincere questa partita. Ed è un peccato che però, vabbè, in settimana la formazione di Curioni aveva vinto, di conseguenza la situazione non è proprio tanto cambiata. Però sono quei punti che tu lasci lungo il percorso, e alla fine del campionato tiri le somme, e dici, cavoli, se avessi avuto due punti in più mi sarei qualificato A. Già con i due punti ieri sarebbe dentro in zona play-off, e sarebbe il suo campionato, due punti in meno, buttati via come hai detto adesso, soprattutto con l'ultima in classifica. Stesso discorso che farò anche per il Breno, perché giocava contro l'ultima in classifica, è stato raggiunto nel finale contro la San Maurese. Dopo aver regalato tre punti alla Calvina, e ne regali due anche alla San Maurese, insomma, alla fine sono quei punti che possono avere il loro peso. Detto questo, è caduto il brusaporto, è caduto 4-2 in casa del Nibionno Gionno, mentre direi che è da segnalare la crescita costante del Ponte San Pietro, che adesso ha ritrovato in perfette condizioni fisiche Ferreira Pinto, che sta trascinando la squadra, ma io sono convinto che le squadre di Mignani sono destinate a uscire, e infatti credo che adesso la formazione di Ponte San Pietro stia gradualmente recuperando la posizione che merita in classifica. Qui stiamo vedendo finora tanta squadra avversaria, il Bolzano se non sbaglio, che è in maglia bianco-rossa, ma finora abbiamo visto più il Vietus Bolzano, a parte il gol del vantaggio, che il Vietus Bergamo. Poi adesso magari comincerà la squadra di casa ad attaccare. Carmi, anche per te, dopo la bella vittoria comunque in settimana, e questa era la partita della conferma, questo è l'1-1, la partita della conferma per entrare nei piani alti di classifica, l'ha bosteccato. Non siamo tanto distanti, però manca quell'1-31 se vogliamo. Non lo so, io continuo a tenere la mia linea di settimana scorsa, nel senso che secondo me il gioco è questo, cioè la categoria è importante, ma la squadra è attrezzata per fare un bel campionato e stop. Sì, un bel campionato, è per quello che con i due punti in più staresti facendo, secondo me, un bel campionato, con i due punti in meno è che cambi la vita. Ritengo invece che mi ha spiazzato la sconfitta del Brusa, anche se sono contento per il mio amico Gioi, però mi ha stupito questo risultatone. Sono a concordo con voi sul fatto che le squadre di Giacomo e Migliani vengono fuori e alla fine ritrovano anche... Noi diciamo che continuiamo a dire Ferrera Pinto, ma è un over 40, non dimentichiamoci che comunque noi parliamo di Ferrera Pinto, ma ce lo ricordiamo quando andavi a vedere lo tuo allo stadio, di Orlando però, c'ha più di 40 anni. Ieri ha fatto la doppietta... Però, però, fa la differenza ancora perché fisicamente è devastante, è perfetto per esperienze, secondo me la cosa... Secondo me la faresti anche tu a 50. Secondo me... Secondo che te vuoi dire, sì. Secondo me... Prova a cercare magari una squadra che magari... Tu sai che ho ancora richieste, ma io non gioco più. Lo so, lo so che hai richiesto. E ti posso dire che... Sì, sì, specialmente se cerchi un portiere che non gioca più... Che non gioca più il sabato mattina... Sì, ho capito, però... Sì, esatto. E sarebbe una bella sfida per me. Però se tu analizzi questo, credo che l'esperienza, la mentalità di Ferrera Pinto porti a far bene. Poi anche perché le squadre di Giacomo, di solito le sue squadre solide... Ma che gol è questo? E lo scanzo? Ma che gol è questo? L'avete visto? No, stavo guardando Arnald. Non si può subire un gol così. Stavo guardando Arnald. Però diciamo che comunque è un campionato bello, un campionato dove comunque lo scanzo ci sta facendo sognare, sta facendo delle risultate importanti. Domenica cominciamo a capire cosa farà da grande. Esatto, processo scanzo. Dopo è anche vero che l'anno proprio che ti... Ieri perdevi 2-0 a Caravaggio l'hai ribaltata. Al di là della forza, perché vuol dire che sei anche forte, è anche l'anno che ti gira bene. Dopo è vero, c'hai Giac Gasparo quest'anno in forma, subito. C'hai la squadra, la sua quadratura. Certo. Certo, se guardiamo la partita dalla prospettiva del Caravaggio, c'è veramente di che preoccuparsi, perché la formazione di Bollisi in casa quest'anno non ha mai vinto. Una squadra che in trasferta si esalta, in casa invece fa più fatica. Ha perso un derby, io credo, in una maniera incredibile, perché quando vinci 2-0 non puoi perdere 3-2. Anche il Mantua ieri perdeva 2-0, ha vinto 3-2, per carità. Può succedere nel calcio, però il rammarico di aver dilapidato un doppio vantaggio in un derby, quello rimane. Quindi Caravaggio sicuramente è una squadra che ha bisogno di trovare una regolarità che finora non ha mai avuto. Questa è la fine della partita, praticamente l'ultima occasione sul calcio di punizione. Un po' di occasioni abbiamo visto, se è una dall'altra parte, probabilmente il pari è il risultato giusto. Possiamo andare a vedere, perché non abbiamo anche il minutaggio per andare in pubblicità, ciò lo segnala da Felix quando saremo richiamati a pubblicità. Andiamo a vedere magari anche i risultati del girone D, dove Paolo ha anticipato il Breno, che pareggia con l'ultima classifica fuori casa, era chiamato la vittoria, e soprattutto la Calvina si conferma, e anche il Franciacorta adesso fa un bel salto in avanti, battendoci di verde. Il Franciacorta è alla sua terza gara con 4 gol all'attivo, quindi è una squadra che ha ritrovato il dinamismo, la freschezza, la forza dei suoi attaccanti, Bertazzoli e Bardelloni, e ha trovato anche una posizione di classifica veramente invidiabile. Il Mantua perdeva 2-0 con il Mezzolara, nell'arco praticamente di una trentina di minuti, ha ribaltato la situazione, ha segnato, ma ha colpito anche i due pali, ha dimostrato insomma di essere veramente una corrazzata. Quindi questa, che poteva essere la prima sconfitta, si trasforma secondo me in una vittoria di grandissima importanza, perché sul piano mentale ti dà una, ma secondo me è un carburante incredibile per le prossime partite. Beh, la Calvina qui sfrutta, sfrutta purtroppo il campo, purtroppo per l'Alfonsine il campo bagnato, il pallone si ferma lì e il portiere non riesce a raggiungerlo, è depredito dell'attaccante, però una Calvina che vincendo a Breno probabilmente ha dato la svolta al suo campionato. Non è soltanto la svolta con il cambio di allenatore, ma anche quella vittoria ha dato morale ad una squadra che queste partite qua probabilmente l'avrebbe perse un mese fa. Però il cambio mister è stato importante, come la prima categoria paladina, il cambio mister è stato importante, insomma, tante volte il cambio del mister... A volte è una scelta azzardata, però io credo che Serafini fosse oggettivamente non preparato a gestire una squadra in Serie D al suo primo anno, perché Serafini ha smesso di giocare a giugno dell'anno scorso, che sia un giocatore esperto, che potesse avere un po' di caratteristiche e di qualità per fare il mister, però secondo me è stata proprio sbagliata la scelta di dare a lui la panchina della Calvina, squadra cioè che si deve salvare. Il nuovo allenatore Florindo ha collezionato due vittorie prestigiose e importanti, ha abbandonato gli ultimi posti, quindi può rigiocarsi anche in prospettiva di mercato di riparazione, può giocarsi le sue chance di recuperare diverse posizioni di classifica. Abbiamo visto Paolo la vittoria prima della Correggese, anche per segnare che la classifica, ok, il Franciacorta è rientrato, è quarto adesso il Franciacorta, però dalle prime tre c'è un distacco. Sì, 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 ci sono le prime tre che sono a 26 il Mantua, a 22 il Fiorenzuola e a 21 la Correggese. Stanno facendo un campionato loro e all'interno di questo trittico di squadre c'è il Mantua che ovviamente ha qualcosa in più delle altre, anche se non è più la corazzata imbattibile, la vediamo qua, subisce al primo minuto un gol molto ingenuo per una squadra come il Mantua. Le immagini si riferiscono soltanto ai gol, questo è il gol del 2-0 al minuto 6 della ripresa e qui la situazione sembrava veramente complicata. Però è venuto fuori il carattere e la forza di questa squadra che sfrutta anche gli errori di una difesa come in questo caso e accorce le distanze, pareggia e poi va a vincere in un tripudio di gioia del tifo che capisce di avere veramente la squadra giusta per vincere il campionato quest'anno. Perché quando riesci a ribaltare queste situazioni vuol dire che sei mentalmente forte, hai la voglia e hai tutte le qualità per vincere. Qui c'è anche il portiere che fa un mezzo errore, anche più di mezzo, anche più di mezzo e la frittata è fatta. Però la gioia, l'entusiasmo con cui il Mantua festeggia questo gol fa capire che hanno voglia veramente di vincere il campionato vincendo tutte le partite o comunque non perdendone una. E poi arriviamo al nostro San Maurese che era l'ultima sede a dire il campaneto a 5 punti, Breno, dove abbiamo già visto l'intervista di Tachinardi che è contento, la prestazione è stata buona, eccetera, eccetera. Io sono convinto in realtà che Tachinardi davanti alla telecamera abbia voluto in qualche modo essere, come si dice, salomonico, cioè non ha voluto sbilanciarsi, ma credo che domani all'allenamento non sarà così pacato, perché quando vinci contro l'ultima in classifica e ti fai raggiungere a due minuti dal termine, dilapidando altri due punti dopo quelli di domenica scorsa con la Calvina, io credo che tu non possa essere soddisfatto. Purtroppo il campo Continuiamo a dire che è sempre un campionato da seconda categoria. Il campo non si presta a grandi riprese. No, ma è proprio un campo da seconda categoria, cioè in mezzo alle case, eccetera. Lì non ha piovuto tantissimo a quanto pare, quindi il terreno sicuramente era in condizioni migliori. È ritornato in portabotti, Marco era squalificato, quindi è stato sostituito, Tagliani purtroppo è uscito prima della mezz'ora per un infortunio. Insomma, la fortuna non sta girando dalla parte del Breno, però queste partite le devi vincere. Al di là di tutto, sei in vantaggio, non hai praticamente mai rischiato perché Botti non fa un intervento che uno e nel finale concedi spazio e libertà a un giocatore che di testa, se non ricordo male, colpisce la distanza ravvicinata e realizza l'uno a uno. A loro serve poco il punto. Al Breno questi due punti che vengono a mancare secondo me possono fare la differenza tra una squadra che si salverà sicuramente rispetto ad una squadra che magari poteva ambire qualcosa di più. Sì, al Breno che si salverà sicuramente la San Mauregio e la Torici. Sì, la San Mauregio è destinata a fare, se non a retrocedere, andare comunque ai play-out. Per il Breno questi due punti lasciati così dispersi potranno pesare alla fine, secondo me. Non è a rischio la salvezza, intendiamoci, però tre alla Calvina e due sarebbero 16-19 punti. Esatto. Anche solo domenica scorsa è una partita importante perché con l'ultima vieni via da una sconfitta dai due derby sconfitti dunque hai la possibilità per fare i tre punti e sistemare di nuovo la tua classifica nella regione alta perché sareste insieme a Francia Porta. Ci sono molte analogie col campionato scorso di questi tempi anche l'anno scorso il Breno in eccellenza ha cominciato con un attimino dopo un inizio strepitoso ha cominciato a segnare un po' il passo e ad avere qualche difficoltà infatti ha perso diverse posizioni e le ha recuperate con un grande post-season nel mese di maggio e giugno. Esatto perché neanche l'inizio del giro di torno era partito alla grande ma vedi poi c'era stato inserimento qualcosa di mercato che non aveva giocato al mister fatto sta. Questo è il vantaggio della formazione del Breno Con Mercai giocatore sempre più decisivo è un attaccante abbastanza abbastanza strano rispetto agli attaccanti tipici di questa categoria fa un grande movimento ha una grande tecnica predilige anche lo scontro fisico quindi è un bel giocatore e segna anche tanto quindi complimenti a lui però questo se non sbaglio è il gol del pareggio al 90 cioè tu non puoi prendere un gol del genere palla inattiva c'è molto da lavorare su queste situazioni sicuramente Questo sarà per quanto il brand il Breno chiedo a Felix se adesso se possiamo andare anche all'intervista magari che poi rientriamo partiamo già dall'eccellenza se mi dai un minuto tanto non è lunga l'intervista a Tachinardi sentiamo dai a fine partita proprio il mister della formazione dell'Ebreno prima di andare in pubblicità sentiamolo Veniamo via da San Mauro Mare con un grosso diciamo ramarico per il pareggio subito nei minuti di recupero purtroppo è andata male ma sono molto soddisfatto per la prestazione dei ragazzi mi hanno giocato molto bene forse negli ultimi 10 minuti ci siamo abbassati un po' troppo però purtroppo il calcio è questo è un periodo che ci va un po' tutto storto ci si era un po' tutto male è peccato un punto comunque due punti persi però per la prestazione devo dire che sono molto contento quindi da martedì si lavora ancora come prima cercando di portare a casa più punti possibili per arrivare subito il prima possibile a una salvezza tranquilla ok questo è Tachinardi rientriamo sicuramente andiamo in pubblicità poi rientriamo non chiedo niente a Luca per questa volta sulla serie D dai tanto rientriamo sulla Cerenza poi arriva ha già pensato il nostro il nostro domenica Breno lentigione io mi aspetto una vinta uno fax guarda io ho già fatto la schedina poi dopo lo 18 esatto va beh l'ha vinta lui la schedina no no deve dire avanti a Stefano Savoldelli esatto aspettiamo Savoldelli per dire chi ha vinto la viste Alex Bonetti eccolo 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 senza dal rammarico dell'Albino Gandino nella partita di ieri eccoci tornati in diretta andiamo a salutare prima Roberto Bugazzi ciao buonasera a tutti Stefano Savoldelli buonasera a tutti buonasera a tutti grazie a tutti direttore generale dell'Albino Gandino Stefano Savoldelli buonasera di nuovo ti ho salutato stasera pazzesco da record la prima domanda subito che facciamo qual è Carmi e la schedina quanto avete fatto la schedina quanto avete fatto perché ti aspettavo non ho dormito la notte non so se sentite la notte voglio sapere chi ha stravinto la settimana scorsa con la S di due punti stiamo a Carmi lui si ricorda quando quando vince la segna io per me sul calendario andiamo a vedere il calendario del Carmi sappiamo ma ha vinto bisogna dare merito ma la domanda caro Roberto che si pone io sono di parte fa la terra domanda perché è stato il fatto della settimana che si pone lo studio come mai Arnaldo Guadagni così sicuro in un discorso ha detto è così sicuro è abbastanza sicuro così sicuro ha ammesso di essere sicuro che tu manderai via Borlini no io non ho detto che lui manderai via io ho detto io ho detto lascerà andare nel senso dire poi c'è anche una richiesta di Borlini perché questa è già questa è uscita già a ottobre siete già sicuri di allora da dove nascono queste voci è un po' che navigo questo mondo per cui posso capire che qualcuno stia facendo il suo interesse per cercare di vedere di creare le condizioni perché questo possa succedere io lo escludo in una maniera più assoluta sia da parte della società ma soprattutto da parte del giocatore punto Borlini per quello che ci riguarda non si muove fino a fine stagione perché fa parte del nostro progetto con lui sono state fatte comunque delle considerazioni che lui ha condiviso che ha condiviso la società per cui per noi il problema non esiste e questo è dunque vedremo il mercato io sono convinto che invece potrebbe ancora succedere comunque questo lo vedremo insomma dai il direttore ha detto per quanto riguarda noi cosa penserà il giocatore sarà no è ovvio perché vedendo il minutaggio che non è alto in questo momento un giocatore comunque importante un giocatore che ha richieste te c'è navi a quello insomma ci sono già delle richieste ma perdonami ma se lui secondo me questo è un gran giocatore questo è un gran giocatore che è arrivato stile Adriano all'Albino sì negli ultimi due o tre anni io parlo di a me non me ne frega io parlo di quest'anno cioè questo qua è un giocatore che ha qualità importante è un giocatore che ha colpi importanti è un giocatore che io conoscendo Roberto non penso più che Roberto la dici con cui ho giocato non penso che vada a scommettere su un giocatore se non ha la mentalità la testa per poter stare all'Albino Gandino perché questo qua gli spacca i maroni e questo è arrivato un po' fuori condizione usiamo questa terminologia e quindi va correggimi direttore se sbaglio va recuperato ma se dopo due mesi lo mandi già via hai sbagliato tutto non penso che è questo bravo c'è un altro problema allora noi con lui abbiamo fatto delle considerazioni inizio anno abbiamo fatto comunque abbiamo delineato un percorso che è stato condiviso questo percorso ritengo che si debba fare con i tempi e con i modi corretti in questo momento chiaramente non è la prima scelta ma lo sapevo benissimo anche perché per tutelarci per tutta una serie di situazioni che sono venuti a creare nel nostro organico abbiamo dovuto prendere anche una punta del 2000 di conseguenza non ha fatto altro che aumentare la difficoltà per avere il posto di squadra perché oggi non ce l'ha nessuno oggi sono in quattro punte che si devono giocare il posto noi abbiamo fatto la scelta di avere a disposizione quattro punte perché non abbiamo più la punta quello che tutti è il ciuppa di turno che da noi ha fatto due stagioni bellissime gli auguro la miglior fortuna perché giustamente un giocatore così o anche i miglior franchini di una volta che quelli si abbiamo sempre avuto punte importanti quest'anno abbiamo deciso che non era punta importante se l'abbiamo in casa e il supporto anche di conseguenza adesso bisognava decidere se lanciare questi ragazzi in maniera definitiva oppure se puntare su altre cose abbiamo deciso di fare come politica della società questa scelta di conseguenza non possiamo lasciarli da soli per cui nel momento in cui ci sono infortuni ci sono comunque problematiche di altro tipo deve esserci qualcuno in grado di sostituirlo che conosce il modo di allenarsi e gli schemi di Roberto per cui la società ha fatto questa scelta non vedo nemmeno chi potrebbe in questo momento venire a sostituire un Borlini o qualcun altro perché dovremmo ricominciare un percorso da capo per cui da noi non è questo il nostro intento se poi succede qualcosa che oggi non conosciamo ne discuteremo tempo debito a che punto è il recupero della condizione di questo giocatore diciamo al 70% anche perché quando era stato quasi 4 stagioni fa era stato lì lanciato mi sembra proprio il Labino Gandino io sono convinto che lui con noi farà bene lui sa che deve soffrire tanto Roberto è comunque una scommessa è vero che Borlini nei due anni al Labino Gandino l'ha fatto bene anche l'ultimo in eccellenza l'ha fatto tanti gol però nei due successivi soprattutto il secondo tra Pada Lunga e Gavano ha fatto molta fatica arriva in un ambiente che conosce già molto bene però arriva anche da due anni complicati è una scommessa per tutti ma soprattutto ha scommesso su se stesso lui perché nessuno gli ha garantito nulla chiaro per cui nel momento in cui si è messo in gioco il giocatore ha deciso di fare questo percorso insieme a noi per cui dubito molto che succeda qualcosa di diverso da quello che ho detto anche perché la scommessa la valuti non su due mesi ma su tutto l'anno perché altrimenti dovevamo dirci guarda facciamo due mesi insieme se in questi due mesi non vengono raggiunte determinati standard noi dobbiamo agire diversamente ma non è stata la politica né è stata l'idea che noi avevamo con il giocatore dall'inizio per cui di questi che abbiamo noi non si muove nessuno poi più che entrare anche nel merito ancora la partita di ieri eccetera la seconda domanda è l'altra quella che noi dicevamo combattuta ma noi sai noi abbiamo un ruolo qua che tante volte lo spacca a Maroni o dobbiamo dire qualcosa in più eccetera ma ci sta non così a caso se l'Albino Gandino fra un mese arriva in queste condizioni a un punto o due dalla vetta della classifica dicevano tante volte magari sai Gotti il Bogazzi la situazione possono arriva l'acqualina e dici facciamo uno sforzo trac giocatore importante e proviamo può essere l'anno giusto proviamo ti ribarto la domanda dove lo mettiamo al posto di chi divento non al posto di chi non al posto di chi un giocatore di esperienza a centro gamma che ti dia una garanzia in più di quella che hai lui ti ha fatto una controdomanda dicendoti se io sono già lì con questi devo andare a prendere chi al posto di chi se vuol dire che sono già primo o secondo devo essere sicuro di migliorarla questa situazione io con le esperienze che ho avuto non ho mai visto inserimenti in corsa che mi abbiano dato più di quello che avevo questo perché perché dipende se sei una società che deve impegnare perché comunque ha investito molto a progetti per ambizioni molto alte e dire io se non arrivo almeno in una posizione idonea nei playoff o meglio ancora vinco il campionato ho fallito allora l'ansia ti arriva e dici devo mettere questo devo fare l'altro il nostro progetto è diverso il nostro progetto è prendiamo 2-3 giocatori giovani all'anno anche dalle società in giro e vediamo di ricostituire quel gruppo fondamentale che ci ha portato fino qui noi abbiamo avuto questo gruppo nei 94-95 che ancora oggi fanno parte del nostro organico che sono i nostri vecchi che sto parlando comunque della squadra più giovane del campionato ma non del nostro no eccetto lo Ginatese no no aspetta un momento altro momento allora lo Ginatese quando non ha dentro Mosca e Puccio perché se ha dentro Mosca e Puccio ha un anno più di noi dici uno è un 87 e uno è un 88 un 88 Mosca non esiste perché il nostro vecchio e ride come un ma tutte le volte che diciamo è Morotti che è un 92 che si è trovato davvero a dire ma prima quando me l'hai detto quando abbiamo fatto il colloquio pensavo che scherzassi e invece qua sono il nonno davvero perché questo è quanto stiamo inserendo comunque due 2002 che sono uno più bravo dell'altro e di cui abbiamo una fiducia enorme abbiamo inserito questi due ragazzi all'ultimo momento del 2000 una punta e un difensore centrale perché volevamo comunque dare anche una continuità se qualcuno dei nostri che non è oggi legato all'Albino Gandino che si svincola domani possa come il Ciupa ricevere la proposta indecente e dice voglio provare e da noi sicuramente non riceverà mai la porta in faccia perché comunque per noi questi ragazzi hanno fatto moltissimo di conseguenza vogliamo anche premunirci di avere sempre comunque una base solida su cui gestire poi i vari inserimenti perché un conto gestire uno, due, tre inserimenti all'anno mirati è un conto rivoluzionare ma sono scelte non c'è qualcosa che sia meglio dell'una o dell'altra cosa io sono convinto che la programmazione parte da lontano il nostro progetto è sui giovani perché il Presidente vuole il progetto sui giovani io lo condivido in pieno e credo che abbiamo forse il miglior allenatore per far giocare i ragazzi in questa maniera non vedo perché dobbiamo cambiare obiettivi o strategie quindi fai capire che il mercato c'è anche a Stefano che è lì tesissimo la cosa è velocissima come sempre rapidissimo rapidissimo è una considerazione che avevo fatto allo studio un paio di puntate fa e adesso che sei qua direttamente tu posso chiedertelo su questa scelta e soprattutto sulla scelta quest'anno di inserire tanti giovani e nessun vecchio tra virgolette hanno pesato gli inserimenti nelle ultime due stagioni spampati fusabassini gagliardini pulzini che poi non si sono rivelati all'altezza diciamo che è stata sono stati gli elementi fondamentali che ci hanno fatto decidere di andare in una direzione quello che dicevo prima ma è per rispondere anche alla legittima domanda che ha fatto Arnaldo arrivi qua fai noi abbiamo provato a inserire qualcosa di diverso e non un solo giocatore o non qualcuno così che tanto per perché erano nomi che comunque erano ambiti anche da società con ambizioni molto più alte delle nostre assolutamente per cui abbiamo visto che probabilmente è meglio che noi cominciamo a fare un lavoro in profondità per dare comunque una continuità al progetto piuttosto che inserire spot un giocatore poi dovesse venire un'occasione che noi reputiamo importante dovesse comunque presentarsi qualsiasi tipo di altra situazione la discuteremo con l'allenatore presidente quello che ci sarà da fare qui non si è mai tirato indietro nessuno per cui non non ci sono non ci sono preclusioni o dire oddio adesso siamo in alto ci verrà il mal di testa boh mal di testa mi veniva di più quando avevo zero punti ti dirò vedo che aveva la voglia dei cambiati anche lui di farti una domanda vai io la domanda che voglio fare al direttore ma dove vi porta Gotti l'anno prossimo in categoria superiore a giocare sono stato troppo diretto no devo chiederlo a Gotti perché non gli ho ancora chiesto io non vorrei che ti facessi sullo stadio ma la domanda dando dietro comunque alla battuta e io mi aggrego alla battuta che penso anche io quella di Arnaldo senza andare ad aggiungere niente perché comunque se tu smonti cioè l'uscita secondo me sbagliata di nuovo discorso può destabilizzarti anche un po' l'ambiente perché uno poi il giocatore diceva allora se sono qua a aspettare a fine due mesi me ne vado ma la sua io l'ho capita perché è stata un percentito dire da detti ai lavori peccato che è stata detta un po' troppo anticipatamente potrebbe anche creare un mezzo problema a tutto allo spogliatoio dove comunque se io sono Borlini che sento la tua uscita dico Arnaldo parliamone ci vedo sto qua due mesi sapendo che vado già via vado da lui e dico va bene ma ditemi cosa devo fare sì però a Carmi l'hanno risolta questa cosa ma la continua a dire che c'è ancora Paolino ma no ma in televisione il direttore non ha escluso comunque una partenza del giocatore no ha escluso fino a gennaz ha escluso che la società lo possa lasciare andare ma non ha escluso che il giocatore possa decidere di andare lui non lo so io ho capito male ma la domanda che ti dico io è questa lui a me ha garantito di no però da qui a dicembre dovessero cambiare le condizioni lui magari si sente all'ottanto al novanta e non gioca e non gioca gli arriva la bella proposta io l'ho sentito anche lui mi è sembrato entusiasmo o ramaricato di dire non resto più lì a Bina Gandino cioè non aveva detto come dire no non sto più lì anche lui mi sembrava interessato di stare lì però come lui ha fatto un discorso molto chiaro mi fa io voglio stare qui ma ci sono voci che gli hanno detto ascolta lo sai meglio di me anni che siamo in questo ambiente che c'è chi prepara il terreno per poi poter fare alcune cose io che ho il compito di assorbire un po' tutte le cose e farvi viaggiare in una maniera più serena possibile ti dico che le risposte che ho dato è che da parte nostra no se si creano condizioni diverse perché qualcuno non è più contento di quello che ha o presume di andare a stare meglio io questo non posso escluderlo a prescindere a oggi ti dico che non è così per cui per quello che ci riguarda e quello che ha detto il giocatore a me personalmente è no poi abbiamo visto dalle cose in questo momento con Carobio e con Tiravoschi che viaggiano a questi ritmi Borlini però volevo adesso rientrare che se no stiamo con una puntata su Borlini l'altra domanda di Luca era quella ma se sei lì a questa volta volete fare il salto di categoria o no? io ho sempre detto e continuo a sostenere che prima di andare in Serie D come squadra bisogna andarci come società e noi oggi dobbiamo fare delle riflessioni ancora su questa cosa perché abbiamo stabilito le nostre regole sappiamo quali sono i nostri obiettivi e quali sono diciamo le aspettative che noi abbiamo e che comunque vogliamo portare avanti io dico che oggi noi non ci stiamo spaccando la testa per arrivare chissà dove o far chissà cosa fermo restando che nessuno dice che ai ragazzi di perdere punti perché così ma ci mancherebbe pure cioè andremmo contro proprio anche all'interesse sportivo e all'obiettivo di chi fa comunque lo sport noi oggi siamo convinti di avere una buona squadra che comunque ha ancora qualche difetto diciamo così di costruzione perché non siamo ancora riusciti dal mio punto di vista a esprimere in pieno il nostro potenziale perché abbiamo avuto una serie di infortuni importanti che quest'anno non puntare su pochi giocatori bravi ma allargare la rosa ci è stato veramente d'aiuto questo vuol dire che se rientreranno tutti tutti avranno le loro possibilità sono tutti al massimo del io sono convinto che questo campionato possiamo giocarcelo fra virgolette nel momento in cui adesso già domenica abbiamo una prova importante con Sant'Angelo subito mi sembra un paio di partite dopo c'è la Visnova io ti dico che vado a giocarmela sereno con tutti poi quello che succederà lo discuteremo lo analizzeremo e vedremo quello che sarà poi il discorso oggi non ci ha messo sotto nessuno l'unica squadra dove veramente abbiamo sbagliato e mi dispiace di non essere stato presente perché sono stato imbottigliato a Pontida c'era l'ira di Dio quel giorno lì sono rimasto lì bloccato e non c'è stato verso però mi han detto che lì abbiamo proprio sbagliato completamente la partita l'approccio è andato 7 e mezzo al nostro portiere abbiamo perso 2 a 0 penso che ci abbiano massacrato in porta adesso non voglio pensare però ragazzi ricordati che se i voti ti dà Stefano Savoldelli ma la simpatia perché c'è questo dipende chi ti dà il voto i voti sono coerentissimi e non l'ho dati io approfittiamo per andare per cui è scagionato mi approfittiamo per andare in pubblicità poi rientriamo ancora cominceremo a vedere un po' anche i risultati perché anche ieri una partita dominata è gettata al vento fermati Roberto perché andiamo in pubblicità poi rientriamo pubblicità allora chiedo a Felix di darmi i risultati della giornata di ieri così cominciamo a commentare un po' Pontelemarense Albino Gandino questo 2 a 2 che io l'ho lasciato con tanti punti di domanda questo pareggio che non sapevano ancora che era arrivato al 94esimo dunque potevo aggiungere ancora tre punti di domanda a quello che avevo scritto nei miei temi di giornata questi sono i risultati e nel frattempo cominciamo a parlare di questo pareggio e anche della vittoria netta del Giussano contro il Ginatese 5 a 0 ma prima Pontelemarenbrese Albino Gandino perché è successo un pochino qualcosina sì è una partita strana cioè strana una partita difficile perché con le condizioni ambientali difficilissime un campo pessimo un sintetico penso sia uno dei peggiori in assoluto che ho visto tantissima acqua soprattutto una fascia dove era praticamente impossibile portava avanti la palla e dall'altra parte durissimo sembrava cemento li imbalzava per cui con una serie di problematiche per tenere l'equilibrio e comunque fare giocate credibile loro molto aggressivi non sono sicuramente una squadra tecnica hanno un centro avanti bravo Nyang ah Nyang che aveva segnato a Vertua sì che è anche abbastanza furbo e falloso perché comunque il gol di Vertua ce lo ricorda però giustamente lui fa il suo mestiere tocca a te gestirlo perché non è che lui sta lì a aspettare il problema è che il primo gol è uscito in maniera rocambolesca dopo dieci minuti la partita poteva anche andare veramente su binari che era difficile recuperare e invece sono stati bravissimi perché i ragazzi hanno cominciato a giocare palla a terra nonostante le condizioni abbiamo avuto la prima occasione la palla si è fermata sulla seconda occasione ha fatto gol il nostro 2002 abbiamo avuto un'altra occasione lì veramente è stato molto bravo il loro portiere che ha fatto una parata veramente importante sul calcio di rigore se vogliamo andare a vedere il regolamento quando tu sei dritto verso la porta uno ti prende per un braccio di tira in terra anche se ce ne sono due in parte è chiara occasione della gol e dovrebbe esserci l'espulsione lì lui ha valutato che probabilmente qualcuno poteva intervenire oppure ha fatto una sua valutazione e ha optato per il giallo per cui noi vabbè abbiamo fatto il 2 a 1 loro dalle grandissime occasioni se non una che ha fatto una bella parata al nostro portiere non hanno avuto nulla se non poi all'ultimo momento che hanno fatto questa punizione che hanno tirato molto più avanti di dove era stato l'arbitro non ha intervenuto il guarderino nemmeno questi hanno battuto anche molto velocemente è stata una spizzata in area però capita vedi è capitato anche a Breno al 93 palla dentro perché quando al 93 fra la palla che scotta Carmi anche lui ha giocato tanti anni lo sa c'è una palla dentro in area di rigore è più difficile segnare per la squadra che deve segnare ma tu ti accorgi quando uno segna non quando perché è più facile che uno non segna nessuno recrimina sul fatto che loro hanno fatto quello che dovevano fare hanno tentato fino all'ultimo di raddrizzare la partita bravi loro che ci sono riusciti cioè a noi resta il ramarico del risultato sicuramente ci resta l'orgoglio di una grande prestazione perché ieri io credo che l'Albino Gandino in queste condizioni con una squadra giovane come la nostra giocare con quella personalità e con quella voglia comunque di vincere e di portarvi a questi tre punti veramente io sono venuto a casa arrabbiato per il risultato ma orgoglioso per quello che hanno fatto i ragazzi l'ho detto anche a Roby subito dopo negli spogliatoi e sono convintissimo che faremo una grande partita anche domenica perché sulle ali dell'entusiasmo e sulla tranquillità anche tecnica che adesso c'è perché ormai si è capito come vuole che si giochi quali sono i tempi di gioco abbiamo acquisito quello che l'anno scorso probabilmente c'era mancato che era una certa solidità anche difensiva dopo ieri era difficile perché in quelle condizioni infatti quello che ho detto lunedì scorso ho detto vorrei guffargli Albino Gandino difesa forte sistemato due gol subiti ieri ma ieri veramente in un campo piccolo in queste condizioni i gol potevano essere zero potevano essere di più sono condizioni molto molto difficili lì più dovuta al caso infatti i gol sono venuti anche su su delle situazioni un po' così però io quello che ritengo veramente importante il salto di qualità che abbiamo fatto è l'acquisizione di una certa mentalità e di una tranquillità noi abbiamo dietro giocatori che magari l'anno scorso non hanno fatto benissimo perché io ho sempre presente Fratus l'anno scorso ha sofferto tutto l'anno quest'anno si è fatto male ancora all'inizio della preparazione è bello di cominciare a giocare una distorsione brutta la caviglia è rimasta fuori tra settimane quando è rientrato non è più uscito questo vuol dire la voglia sulla vostra solidà difensiva quanto è influito il fatto di poter avere Norris fin dall'estate e non la metà stagione come lo scorso anno è fondamentale e richiama il discorso che abbiamo fatto all'inizio noi non vogliamo continuare a cambiare le scelte che facciamo le facciamo mirate poi possiamo azzeccarle o no il giocatore io sono sincero pensavo che avesse comunque Mire mi ha detto io qui sto benissimo e voglio rimanere e figurati se non lo teniamo volentieri ci mancherebbe pure per cui avendo comunque Caralà Francesco il portiere il nostro Norris Fratus e abbiamo preso Morotti che si sta veramente dimostrando un giocatore che non è molto appariscente ma ragazzi miei tanta sostanza e poi è d'utile vuole fare sceltertino che è il centrale centrale e a noi mancava comunque a sinistra chi spingesse con la sua continuità e questo secondo me ci ha dato delle opportunità importanti speriamo di continuare così e di avere anche 4 o 5 ragazzi che oggi non abbiamo ancora visto perché sono infortunati io parlo di un battaino su cui conto moltissimo perché è un mancino puro uno che salta l'uomo è due anni che è sottovalutato è stato sfortunato anche adesso si è rinfortunato un'altra volta adesso li prende martedì abbiamo il nostro 2002 Borelli su cui noi abbiamo contato tantissimo in fase di preparazione abbiamo preparato un po' tutto in funzione di venerdì prima di andare in campo con la Vertovese si è infortunato è rimasto fuori un mese per cui lì ribalta tutto perché il centrocampo non era più abbiamo tolto appunto abbiamo dovuto inserire il 2001 in avanti abbiamo dovuto fare un po' di aggiustamenti e ci hanno vinto anche a prendere gli altri due ragazzi 2000 proprio per non avere più questo tipo di problema deve essere legato alla singola persona le cose migliorate Carmi chiedate a te adesso perché chiamo da fuori è che l'anno scorso la Bino Gandino faceva due tre risultati belli poi arrivava come la partita ieri cadeva poi faceva due risultati poi cadeva è stato un campionato che poi alla fine è rimasto né di sotto né di sopra è rimasto lì quest'anno invece dopo le due sconfitte all'inizio Carmi il segnale che ha dato la Bino Gandino è questo la grossa continuità il pareggio di ieri può essere un rammarico però è un pareggio fuori casa secondo me ha dei giovani bravi dei giovani bravi hanno è stata una scelta giusta quella che hanno fatto Roberto Roberto e Gotti di fare una squadra così senza senza gente storica che ha fatto categorie superiori cavalli gente che pedala perché comunque è gente che sa giocare a calcio perché comunque alla fine io sono convinto che apro e chiudo il discorso se rientra anche poi Borlini questo è un valore aggiunto importante questo qua questo qua fa la differenza assolutamente io sono nel mio pensiero non lo lascerei mai andare via anzi spero che si sia messo a posto fisicamente questo qua è forte quindi la Bino Gandino ha un valore aggiunto che è la la solidità di squadra poi quando non c'hai io credo quando non c'hai tanti dei leader ma alla fine sei un gruppo alla fine non c'è quello se pensi a uno che ha 27 anni che è il veterano ti fa sorridere quindi sono un gruppo di amici quindi l'amicizia c'è uno che comanda che è Roberto che sia un esigente c'è una società alle spalle che comunque che ti dà una garanzia una solidità importante quindi alla fine può solo che far bene poi nella mia idea poi Roberto mi dirà stavano dire cretinate o anche Roberto Bogazzi mi dirà questo però secondo me il livello di quest'anno è leggermente un po' inferiore allo scorso anno questa è la mia idea quindi ci sta dentro benissimo a fare per quello che io chiedo per me potrebbero fare anche se altro di qualità perché ritengo ma ne parlavamo anche con Stefano e Paolo che la categoria è quest'anno questo è l'anno giusto ragazzi allora Roberto mi chiediamo attorno questo è l'anno giusto cioè io credo che difficilmente si potranno ripresentare l'anno prossimo le stesse condizioni perché nell'altro girone non sarebbe così semplice perché nell'altro girone ci sono diverse squadre competitive in questo non me ne vogliono però non vedo delle armate e forse il discorso che dicevi tu che la società prima deve essere strutturata prima della squadra eccetera io ho la sensazione che voi forse in serie di non è che ci avete proprio tanta voglia di andare perché altrimenti con questa classifica e con queste prospettive qua secondo me avrete già pianificato già un mercato invece tu hai smentito che ci sarà un mercato o comunque un mercato significativo cioè mi fa pensare che voi vi accontentiate di stare qua ho sbaglio ho letto bene ho letto male noi siamo siamo partiti con l'idea quest'anno di salvarci perché uno non conoscevamo il girone due sapevamo dopo due partite avete capito che dopo due partite c'è stato diciamo un cambio di sì erano zero punti dopo due partite sì ho capito però ma non male però sì però erano zero auginate male auginate malissimo era quello che penso sia stata la sferzata perché si sono prese delle decisioni che magari sarebbero potuto prendere con un pochino più di tempo un pochino più di agio a questo punto visto come stavano le cose e visto come stava andando peggio di così non poteva comunque andare allora a questo punto si è forzato una mano su alcune situazioni e queste situazioni alla fine hanno pagato perché adesso possiamo dirlo queste situazioni hanno pagato potevano non farlo potevano non essere così potevamo essere in una situazione come squadre di dietro a noi che hanno speso molto più di noi che hanno ambizioni molto più sbandialate delle nostre che oggi si trovano a 5-6 punti 10 punti 11 punti e magari con una situazione all'interno allo spogliatoio all'interno della stessa società non idilliaca Zingonia Sant'Angelo Sparagliari la domenica anche al Falco non guardo in casa d'altri io guardo solo a quello che poteva succedere a noi e che oggi per rispondere anche alla domanda sua non è che non vogliamo oggi vogliamo fare i passi lunghi come la nostra gamba io non voglio andare oggi a imporre neanche al nostro presidente un qualcosa che a oggi non reputo di essere in grado di gestire come sto gestendo oggi questo tipo di discorso però non è più così uno sparento è una risposta alla politica è politica perché non può non può essere diversa nel senso che non conosco molto concreta è meglio stare in eccellenza allora rimango in eccellenza per fare campionati come questo piuttosto che andare indietro se la D dovesse essere a portata di mano perché io sono convinto che lui abbia detto una cosa vera quest'anno per come abbiamo visto fino adesso i nostri campionati di eccellenza è l'anno in cui siamo arrivati con continuità più vicini alla vetta cioè è dire noi oggi se stiamo qui e continuiamo ad avere questo tipo di discorso è probabile che a fine anno se le cose vanno in questa maniera potremmo anche trovarci ancora lì magari poi da domani perdiamo quattro partite ci dobbiamo guardare dietro e rivaltiamo tutti i discorsi per cui stiamo parlando e nel parlare uno può esprimere più o meno per dare anche delle risposte a chi gli fa delle domande è una risposta politica sì nel senso che oggi non ho elementi per dirti sono in grado con certezza di fare una cosa diversa perché non li ho perché dovrei sedermi con il presidente dovrei capire chi ci può dare una mano dovrei capire tante cose dovremmo capire a livello di stadio fatelo lo faremo sedetevi perché guarda che è l'anno buono questo allora se ci saranno le condizioni nessuno di noi si alza dal tavolo perché in quel momento lì discuteremo di quello di cui dobbiamo parlare però dobbiamo avere la certezza di avere le spalle coperte cioè che non ci riguarda più il discorso salvezza neanche se dovesse succedere chissà cosa che comunque nell'organico riteniamo che ci siano elementi fondamentali per il nostro progetto anche andando avanti e bisogna vedere quanto si può e si dovrà investire per fare qualcosa di diverso nel giorno in cui capiterà però io sono Stefano dobbiamo passare scusami certo potremmo stare qua fino ai 10 sono tantissime le domande da fare ancora che vabbè abbiamo parlare a Vertovese la sconfitta ma soprattutto tante immagini dopo che partendo dal Darfo tra Unghese eccetera eccetera e non abbiamo ancora mandato un'immagine allora tanto ci ritroveremo anche nel ritorno insieme all'Albino Gandino e soprattutto domenica saremo presenti perché domenica Mismetti e Belotti saranno seguire Mismetti e Belotti saranno seguire Albino Gandino Sant'Angelo adesso invece prima andare in pubblicità poi il Darfo lo manderemo nella parte anche della promozione accenderemo lì parleremo un po' meno magari di seconda categoria questa sera la Vertovese che perde a Treviglio ho visto un Locatelli che non ha parlato ha parlato Tagliente Locatelli Nero a fine partita perché la Vertovese si ha giocato a pallone però ha vinto la Trevigliese almeno dalla cronaca questo sembra anche nell'ultima partita in casa era molto nervoso ovvio che quando fai buone prestazioni e non raccogli risultati la tensione aumenta ho letto anch'io come te l'articolo non ho visto chiaramente la partita la Vertovese ha tenuto tanto palla però non ha graffiato ha perso ancora è la seconda sconfitta consecutiva e quindi penso sia anche naturale un po' un po' di dispiacere anche perché come dicevamo prima questo è un campionato molto livellato dove nessuna nessuna scappa e quindi insomma per la Vertovese ogni partita giocarsela la pai e nell'ultimo perdere da fastidio è ovvio che è una squadra che finora lo ha perso o ha vinto la Vertovese non ha conosciuto ancora il pareggio ha fatto 4 vittorie 4 sconfitte se non sbaglio siamo all'ottava o 5 sconfitte adesso non mi ricordo sì no ne ha vinte 4 e ha perso 5 domenica arriva il Leon che ieri ha perso 5-2 in casa con la Louisiana quindi sarà una partita importante per entrambe per entrambe soprattutto anche per la Vertovese perché al di là della buona prestazione con la Virtus Nova Gessano con ieri a Treviglio ma quando sei sulla cartellina 0 è caro dopo comincia a entrare un po' di pressione al di là della squadra che è rifunzionata però però il paraccio a 12 punti con una vittoria cioè adesso deve soffrire sì perché due domeniche fa sembrava dire era un punto ma metta loro a due eccetera deve fare attenzione adesso però domenica comunque come dicevate voi con Leon bisogna assolutamente fare risultato vedi che in un anno secondo ti sbatti a sinistra e sei ridosso subito dalle prime 4 quindi adesso è giusto far notare questa l'ennesima passo falso perché o vince o perde però adesso la binancia pende sulle sconfitte però la lunga è importante fare vincere o perdere che fare paregino paregino ricordati io mettere la firma vinco perlo vinco vinco perlo adesso dopo due sconfitte però sarebbe la vittoria per togliere la pressione al di là della classifica per togliere non addirittura la paura la pressione a questa squadra noi ci fermiamo per la pubblicità tanto saremo presenti domenica sarà Stefano mi dispiace per la vertovese no ma sarà Stefano e la nostra truppa è presente a riprendere anche vertovese leone ne parleremo lunedì sera qua con noi con le interviste e le immagini ci fermiamo quella pubblicitario rientriamo abbiamo la pagina forse costanza Darfo il girone C di eccellenza e Stefano ieri ha seguito la partita un Darfo anche lì decimato ma ha fatto un buon risultato pubblicità e torniamo in diretta adesso col girone C e dobbiamo accelerare quante cose dovremmo domandare gli avvocati bisogna fare quelle puntate extra Angelo dobbiamo lanciare quelle sotto Natale dedicate a una società in cui lì facciamo sia il processo che anche invece i complimenti se merita anche la società adesso andiamo avanti con il girone C di eccellenza però se puoi salutare Borlini puoi salutarlo ma sì ma io sono tutto ma abbiamo trovato una telefonata cordialissima anche con il ragazzo giustamente girone C di eccellenza eccola qua i risultati due rinvii quello di Castiglione contro il San Lazzaro e Cazzago Bornato calcio romanese questi sono stati rinvii ma c'è anche un altro rinvio Val Calepio tra cui c'è un rinvio giallo sembra che non sia solo il campo bagnato o meno che abbia rinviato questa partita ma l'avvio che si era dimenticato il fischietto mi sembra strano che si è rimandato una partita solo il fischietto e l'arbitro si fischia con le dita beh sul giornale magari era bravo a fischiare con le dita sul giornale si riporta che l'arbitro inizialmente aveva dato l'ok dopo di che rientrati negli spugliatori nel momento di cominciare la partita ha fatto il secondo sopra luogo a quel punto ha deciso di sospendere si è accorto che non aveva fischietto facciamo finta non dico che manca fischietto facciamo finta di dire adesso non ci vuoi più giocare mi serve assurda quella del fischietto però se lo fa prestare da qualcuno però è arrivato da qualcuno sì esatto ci sarà qualcuno lì in parte la società che fa allenamento c'ha sempre ma sì dai penso che anche collaborano i colleghi ma sì ma sì dai i colleghi sono guardati ma nel senso le società hanno i fischietti ma io non lo so però io non so la regola Roberto però se dovesse non star bene un arbitro cioè viene sospesa la partita direttamente tutto non è come avrebbe capitato mi ricordo nel prima partita di playoff il primo anno con la Pralunghese primo tempo 0-0 a noi bastava il risultato niente l'arbitro ha preso una storta abbiamo provato a rimetterlo in sesto non c'è stato non se la sentiva ma secondo me secondo me questo ha patito veramente il fatto che ci fossero 600-700 persone a vedere di conseguenza ha avuto anche un attimo di lì di non essere più in grado di gestire la partita la sospesa mi hanno dovuto ripartire da 0 ricordo ma infatti quello che tengo a ribadire ed è una cosa che ho ribadito anche in altre sedi che noi avevamo avuto due ammoniti fra cui uno è stato squalificato e quello è valso perché quello te lo porti dietro bisognava ripartire tutto da 0 quello te lo porti dietro l'ultimo anche di queste cose è Paladina che a futuro recupera un settimana Paladino Sarnico era stata fermata dal direttore legale che non era stato bene al 45esimo recupera un settimana ha vinto Paladina contro il Sarnico poi ha vinto anche ieri dunque il cambio di allenatore ha portato molto bene la formazione del Paladina questi sono stati i risultati dunque tre partite ferme quello che conta andiamo con le immagini forse Costanza Darfo è arrivato questo uno a uno chiedo a Stefano e c'è anche una nuova capolista c'è anche ovviamente che il Val Caletti non ha giocato però la rumanese non ha giocato tra le partite tra le partite di ieri ovviamente il risultato che spicca è l'ennesimo posso farci del Tergate sconfitta in casa con la Bedizzolese compice il rinvii compice il rallentamento di diverse altre squadre il Tergate è tutto sommato ancora 6 a meno 6 della vetta però sta steccando tanto a meno 6 della vetta segna pochissimo infatti ho detto Pala ho chiesto ieri sembra confermato anche non sembra che rischi più di tanto il mister però Tergate si deve guardare infatti al di là dei 13 punti della vetta ma segnali di poter rientrare quando è che li dai in questo momento non li ha mai dati è una squadra che non segna quando ha Cristofoli gestra colonnetti eccetera eccetera tutti gli uomini avanti questo invece è forza Costanza Darfo questo è l'errore questo è l'errore tiro deviato Tognazzi va per cercare di tenere la palla e evitare il corner la perde e cancelli e cancelli segna errore gravissimo è una parata che i portieri fanno spesso solo che col terreno bagnato scivoli lo rivediamo se ve lo ricordate Toldo nell'ultima partita di Cooper a Brescia fece un errore alle genere segna a Baggio il problema è che la palla si è fermata lui è scivolato di un altro metro c'è sicuramente una leggerezza in questo momento io non posso dire che è un errore sai che io sono questo qua è una cosa che può capitare anche perché qui lui la sfortuna che ha avuto che la palla è stato bravo a tenerla nella spinta con queste maglie che abbiamo adesso ha preso più velocità è andato avanti un metro e non si è portato la palla non riesce a prendere la palla Arnaldo perché lui non riesce a tenere la palla perché è andato per fermarla quindi nel tuffo ha preso velocità quindi la palla non è riuscita a prenderla in presa lui è riuscito a prenderla ma non in presa perché comunque nello slancio è riuscito a fermarla e poi è andato avanti un metro la palla guarda che io sono molto critico con il portiere ma qua non posso onestamente ecco lo rivediamo poi ha fatto per rientrare ma scivolando sì però Luca per una palla che esce normalmente tu gliela dai all'attaccante per far gol ma l'ha deviata lui non voleva farla andare in calcio d'argo c'è lo so però una palla che male che va la vai in corner tu gliela dai all'attaccante un metro dalla porta spesa dentro Stefano credimi l'ultimo suo problema di dargli all'attaccante non è questo il problema principale qual è che prende velocità quindi la palla non riesce più a tenerla ferma perché lui prende velocità stop alla palla ma va più veloce ma va più veloce col terreno quindi la palla cerca lui cerca di girarsi su se stesso sicuramente però questo Luca è un errore grave perché qua è una cosa che non vediamo pochissime volte vediamo pochissime volte non è un errore grave perché comunque andava salvata quella palla bisogna tentare di salvarla perché sennò era corner sì ok ma basta salvare un corner gli hai dato un gol era meglio un corner o il gol la pioggia alla fine è come il gol che ha subito l'alfonsino e quella calvina a retropassaggio la palla si è fermata per la pioggia e l'attaccante ha fatto gol ci hai visto che è andato avanti un metro lui ha provato a fermarsi subito il terreno bagnato continuava a scivolare quindi alla fine poi bravo onestamente diamo anche un plauso all'attaccante della forza che non si è fermato nove attaccanti giudici dicono male del portiere un tiro così invece la direi cancelli è stato bravo a seguire l'azione è stato giovanissimo a classe 2001 poi tanto Darfo nel secondo tempo un Darfo senza piantoni senza remi senza Marco Guarnieri poi si è fatto male anche Paolo Guarnieri due infortuni a partita in corso l'ha avuta anche la forza costanza uno proprio l'autore del gol cancelli l'altro seghezzi partita ovviamente condizionata dal terreno di gioco inzuppato d'acqua occasioni pochissime tanto agonismo nel primo tempo di fatto l'unica occasione è stata quella del gol della forza costanza nel secondo tempo il Darfo ha spinto tanto però di fatto occasione non ha creata se scriviamo questi due tiri che però Pelati ha bloccato facilmente poi all'ultimo minuto quando si è mai finita Barcanelli si è avuto una gran giocata è questa sul filtrante salta secco l'uomo bella giocata dell'attaccante bella giocata perché non era facile poi anche la posizione doveva calciare salta e spara sul secondo palo bravissimo questo però pollo pollo anche il difensore si devo dire la forza costante nel secondo tempo ha rezzato tanto il baricentro dando la possibilità al Darfo di salire quando guardo i gol c'è ne ricordo anche di vedere l'altra prospettiva perché altrimenti si si certo assolutamente faremo sempre i complimenti all'attaccante c'è una grave responsabilità anche la difesa mancavano due minuti tu non puoi lasciare comunque un metro non è vero è libero questo giocatore nel cuore dell'area non puoi lasciare la linea era molto defilato Paolo ha fatto anche uno stop quello davanti sbaglia l'intervento poi dietro gli lascia il metro e Bacanelli che in questo momento trasforma in oro tutto ciò che tocca gli ha puniti giustamente Bacanelli sembra davvero un giocatore trasformato rispetto a quello che avevo visto nelle prime partite nelle ultime tre partite tre gol ma anche ieri un altro giocatore un altro passo uno capace di fare la differenza i complimenti che il mister gli ha fatto sicuramente sono un altro stimolo e ieri non era certamente sul terreno perché non era il terreno di un giocatore agile tecnico era un giocatore di un attaccante di peso come Ademi il Dalford era affrontare una squadra che veniva da quattro vittorie consecutive e la serie usati utili consecutivi non era certamente facile sicuramente penso sia un punto positivo quattro vittorie senza subito io penso che la forza costanza ha fatto il suo e quindi ha continuato la sua serie positiva se devo cercare di tutto quello che avete detto giustamente voi penso che Pelati poteva fare qualcosa di più su questo tiro su questo tiro in diagonale nella posizione defilata è rimasto dritto anche lui condizionato dal campo pesante crediamo perché lui sul campo asciutto lo para con la sigaretta di piede invece è rimasto preso in contropiede la palla non era fortissima tutta giustamente la disamina di Paolo e Stefano questo liberissimo guarda che lui il piede destro non lo muove rimane fermo giù perché l'ho guardato tre volte bene si è fermo vedi che rimane fermo col piede giù non prova neanche ad andare incontro alla palla poi secondo me lui se l'aspettava sul primo palo lui ha fatto tutto bene ha coperto il primo palo perché questo ha fatto un gol sul secondo palo però un portiere bravo come lui il miracolino te lo aspetti capito vedi che è preso in contropiede perché comunque alla fine non lo aiuta credimi il campo non lo aiuta pelati perché questo qua lo parava lui questa è la mia idea sì al netto di tutto ovviamente le fessure qualcosa ha concesso magari il portiere potrà fare il miracolo Balcanelli ha fatto comunque un gran gol sia per il controllo che per la conclusione sì Paolo cambio modulo ha portato bene al Darfo finora perché da quando ha cambiato modulo la squadra paticando sì il centrocampo Stefano lo può confermarlo sicuramente all'inizio soffriva molto il centrocampo perché non riusciva a dare il supporto agli attaccanti e non riusciva a dare copertura alla difesa adesso con il modulo a quattro la condizione ieri ho visto anche Mondini capitano un altro segnale comunque che può avere la sua importanza Baccanelli ispiratissimo c'è maggiore equilibrio dietro sono molto esperti perché bisogna dire verità dietro al di là di qualche errore che ogni tanto vediamo per avventare l'infortunio di Paolo eh sì e questo sì in prospettiva può essere pesante è rientrato Martinarini se non sbaglio sì ha giocato però il modulo a quattro secondo me si adatta di più a dare equilibrio sì ha giocato con i tre dietro i tre di esperienza e con i due terzini che ovviamente davano una mano ai tre centrocampisti quindi rinvoltire il centrocampo quello era il segreto ragazzi girone C girone B sempre la solita battaglia l'altro è meglio questo è peggio quello è più tecnico questo è più come la vedi? allora perché ogni tanto vedi anche le nostre immagini sull'altro sì 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 no ma ci siamo fatti anche noi un'idea anche perché all'inizio non sai mai se la scelta perché non è stato che hanno obbligato abbiamo chiesto di poter tornare di là perché il primo anno l'avevamo fatto di là abbiamo fatto due anni di più l'avevamo andato ancora un anno di là anche perché mi piace incontrare anche squadre nuove che non abbiamo mai incontrato questo per vedere anche il livello di crescita del tuo gruppo per capire se effettivamente puoi portare a casa qualcosa io dico a oggi quello che posso dire ma ti dico sono otto partite per cui preso col beneficio di inventario di chi comunque ha visto otto partite credo che ci sia più livellamento in alto nel senso che non c'è la squadra che ammazza il campionato l'anno scorso un brusaporto un breno anche se poi ha avuto la sorpresa tra la vertovese secondo me che ha meritato di fare il campionato che ha fatto perché effettivamente ha avuto una continuità e comunque una tigna fino alla fine e hanno meritato veramente il campionato che hanno fatto e qui ho visto squadre che se tu leggi i nomi indistinti ti tremano i polsi poi in campo abbiamo visto cose diverse vuoi che siamo all'inizio vuoi che come noi magari chi ha fatto non ha ancora registrato del tutto i giri del motore deve mettere a posto un sacco di cose però è una grandissima differenza non l'ho notata probabilmente c'è più agonismo e più voglia di vincere nel girone C che dall'altra parte a oggi non ho riscontrato ma magari la trovo in quelle due o tre squadre la Visnova la Louisiana che non abbiamo ancora incontrato e che ci hanno detto essere quelle che hanno qualcosa in più per cui sono curioso anch'io di misurarci con queste realtà per capire effettivamente anche qual è la nostra dichiaratura comunque avete fatto bene andare nel B sì no sono d'accordo con Paolo e non sono d'accordo con il direttore avendo viste quattro da una parte e cinque partite dall'altra sinceramente mi sembra che il livello del C sia più alto a livello di intensità però poi per carità ognuno ha la propria opinione non c'è nulla di scientifico io ti dico quello che ho visto in queste otto partite e quello che posso immaginare possa succedere di là perché non credo che squadre come il Telgate il Valcalepio stesso abbiano fatto questo tipo di organico per onor di firma certo il Lumezzane per tradizione sappiamo che il Darfo io credo che alla fine i valori usciranno perché oggi è vero è a nove punti però vedo che la prima la governolese con cui anche noi sono tutte squadre con cui abbiamo lottato l'anno scorso sono squadre di livello sono squadre molto arcigne perché quando vai soprattutto a giocare in casa loro a Bedizzole a governolo veramente i pirati dal mincio lì devi metterci il puzzo buono se no esci travolto però anche qui ho visto squadre come la Ponte Lambrese ieri che magari oggi non hanno punteggio squadre toste squadre che comunque hanno un loro perché giocano in una certa maniera probabilmente qui ce ne sono 4-5 di più ma penso che probabilmente si staccherà qualcosa di più come l'anno scorso nella zona retrocessione però sono ipotesi magari invece noi io ho visto che abbiamo tribunato con tutti cioè non abbiamo fatto vittorie facili cosa che l'anno scorso qualche volta succedeva perché mi ricordo con l'Orsa nessuna perché neanche il colonio stesso che sembrava fosse io ho visto una squadra organizzata giovanissima questi sono più giovani di noi perché veramente loro il più vecchio che avevano in campo erano 98 e di conseguenza vuol dire che Di Napoli sta facendo un lavoro secondo me bellissimo perché era teleguidata dalla Pantina sarà bellissimo però alla fine retrocederanno sì ma loro sono saltati dalla prima categoria lo sanno gli hanno regalato fra virgolette questa opportunità e hanno detto proponiamo una squadra per cercare di vincere la promozione l'anno prossimo o provarci almeno a venire su con un'organizzazione e una squadra ma loro secondo me sono stati correttissimi perché hanno giocato benissimo hanno comunque ci hanno sfidato sul nostro campo che è la corsa e la palla a terra hanno fatto anche delle buone cose noi gli abbiamo sbagliato qualche gol di troppo perché due o tre volte proprio davanti al portiere abbiamo sbagliato delle cose che non dobbiamo sbagliare però serve anche a noi per crescere perché è giusto quando hai qualche peccato di gioventù lo porti dietro lasciami sentire Bertoncelli prima di andare in pubblicità perché il ministro della Forza e Constanza l'aviamo uno che Calminati lo conosce appena appena non sentiamo Bonetti perché bene o male ieri contento abbiamo visto in interviste di Bonetti di solito contento ma Bertoncelli che Stefano l'ha agganciato anche il Tizita l'ha agganciato a fine partita sentiamolo mister Graziano Bertoncelli arrivavate da quattro vittorie consecutive in estremi si è sfumata la quinta sì è vero eravamo già lì a sapolare la quinta ma nel calcio finché l'arbitro non fischia la fine non puoi non puoi sapere qual è il risultato su una situazione dove sicuramente si poteva gestire meglio abbiamo beccato il gol e niente portiamo via questo pareggio che sinceramente è il risultato più giusto però beccarlo alla fine fa sempre male insomma sì non sapevamo non sapevamo come fosse il campo finché non siamo venuti qua dentro nel riscaldamento io ho chiesto ai ragazzi una partita di battaglia oggi perché come hai detto te le condizioni non erano delle migliori anzi tutt'altro invece poi nel riscaldamento ho visto che comunque c'era la possibilità di giocarla e nel primo tempo secondo me l'abbiamo fatto anche bene nel secondo tempo non riesco a capire perché abbiamo cominciato a tirarci indietro e non abbiamo più giocato senza rischiare niente né per amore di Dio però poi alla fine è uscito quell'episodio lì dove secondo me è mancato il raddoppio di Elassani in fascia là su Curni spalla dentro e è beccato il gol dell'uno pari dobbiamo sempre lavorare così tutti ci danno per già retrocessi ci davano per già retrocessi all'inizio dell'anno ed è giusto che noi andiamo avanti a pensare quello noi siamo una squadra che deve far fatica noi siamo una squadra che deve soffrire fino a che non raggiungerà l'obiettivo sperando di raggiungerlo quindi non c'è da lavorare c'è da lavorare sempre così con umiltà con serenità e di andare oltre i propri limiti sempre l'anno scorso nessuno lo dava per vincente e ha vinto e ha vinto i playoff quest'anno lo danno tutti per retrocesso invece sta avendo una grossa classifica il tuo amico Bertoncelli sempre con la foto del Carmi all'interno sempre le mie foto lì mi sa esatto ci fermiamo dai per il pubblicitario poi entriamo campionato di promozione perché poi dobbiamo fare promozione prima e anche la seconda categoria avremo l'immagine cavarnese Juventina Covo Pralunghese Virtus Lovere Cenate La Falco che vince e anche il Selvino che pareggia con Rometta pubblicità Rientriamo dai campionato di promozione andiamo a averci i risultati Felix ci manda i risultati del campionato di promozione è arrivata questa vittoria Roboante della Praunghese a Covo perché Roboante è ancora di più quella del Casazza San Paolo però erano due partite diverse una scontri tra l'altra sclassifica tra due squadre che erano partite con ambizioni grosse e l'altra due squadre un po' disparate verso il fondo della classifica dove il Casazza è uscito alla grande ha cambiato tanto ne parleremo poi Luca Sana sul piano della formazione ha rivoluzionato un po' la formazione non giocando più con 4-3-3 ma giocando con una punta avanti gli abbiamo dato i nostri consigli ha ascoltato noi e abbiamo anche due gole se vuole magari Felix può partire lì se li ha sotto mano il gol di Michael Bellina è un numero questo è il calcio di rigore questo è il 5-0 di Gritti praticamente ma sarà bello il gol di Bellina era il 3-0 dopo i primi due gol segnati da primo a Trovesi che rientrava a titolare perché Bellina l'ha calciata là nel 7 è difficile per i portieri andare a prendere bellissimo non la prendi mai a parte che non gli prendi mai le sue punizioni secondo me è uno che mi ricorda molto il mio ex compagno che giocava con me che sicuramente Paolo si ricorda è Mario Donelli si? ho un vago ricordo un mancino di Dio ecco lui calciava come Michael Bellina anche in allenamento ti faceva prendere l'esaurimento nervoso perché ti faceva volare a prendere ti dicevo ricordati che la ragnatela di qua e di là infatti è quello che dicevamo noi deve giocare più vicino alla porta ieri è stata una prestazione importante di Bellina al di là del gol del terzo gol perché ha dato là parecchi degli altri gol è rientrato a Trovesi titolare ha rinforzato il centrocampo giocando con un 2000 vicino a Bellina davanti Ferrari dietro che è un giocatore importante quello che arriva da Losa ieri era anche un derby è comunque proprio un derby in tutti i sensi allora è solo strano che sia arrivato questo risultato no 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 assolutamente per me ieri sta sfruttando un attimo questo questo zoppicare del San Paolo d'Argon chiamalo zoppicare sono arrivati con una cattività agonistica secondo me importante quella di Casazza ieri io credo che hanno affrontato la partita col piglio giusto poi avevano fammi di vittoria e l'hanno proprio distrutti proprio sotto un punto di vista e per il San Paolo domenica è un crocevia importante perché c'ha lo scontro si giocano col Treviglio a Costreviglio Fadaninico da tutti e due e il San Paolo d'Argon di Paolo Foglio deve pensare di partire tu dici che Foglio resta ancora stasettimana adesso andiamo a vedere anche l'immagine a Cavarnese mentre parliamo di questo sicuramente è una bella risposta quella del Casazza e la teneremo da molto però penso anche che aiuta tra i limiti del San Paolo quattro sconfitte consecutive da quando è entrato Foglio si non è che brillasse prima ma ha continuato ad avere grosse difficoltà e quindi penso che la vera reazione del Casazza sarà da pesare domenica quando arriverà il San Pellegrino e lì si giocheranno un po' di partire si il Casazza arriva a San Pellegrino ma Casazza se la può giocare questa partita è vero anche questa è una partita di venta portante abbiamo visto ieri Bentoglio entrare dalla panchina ha poi segnato abbiamo visto anche Gritti entrare dalla panchina dunque ha rivoluzionato tanto come viene andato rinforzando il centro campo perché tante volte è inutile giocare con tre punte perché se le tre punte arrivano pochi palloni possono fare mica tanto neanche loro fuori Fratelli che non è neanche entrato insomma vedremo contro San Pellegrino se è così è ovvio che poi c'è questa partita perché io ho detto ok bella la Gavarnese brava la Gavarnese vince San Giovanni Bianco fa questo fa l'altro però sai mancano le vittorie se lì ho un punto tra i play out beh è chiaro che adesso è chiaro che ha perso una sola volta le nove partite però è anche vero che in queste nove sei la pareggiata quindi i pareggi però diceva Carmi prima come la Vertuvese ha 12 punti non ha pareggiato neanche una lei però nell'era dei tre punti il pareggio vale molto molto meno della vittoria e quindi la classifica ovviamente non è brillante bisogna anche dire che la Gavarnese a parte forse l'ultima con l'Azzano che ha giocato sotto tono nelle altre partite ha sempre fornito prestazioni importanti e andava comunque in casa una colonnese che è in buone condizioni e che sta subendo pochi gol quindi non era certamente una partita una partita agevole sì non è una partita facile perché la colonnese l'ultima ha battito la Pranghese ha battito Casazza 3-0 però in casa ha fatto questi risultati e subisce poco e purtroppo ci manca quella manca chiedo anche a voi la Gavarnese che possa dire ok perché adesso bisogna tornare in una posizione un po' più tranquilla perché tu giochi bene fai calcio spettacolo tutto quello che vuoi ma pensa in mia Carmi io la Gavarnese è una squadra che mi è piaciuta molto mi ha fatto un'ottima impressione a Prada Lunga però ti ripeto tra lì a fare un campionato da vertice ce ne vuole è una bella squadra una squadra che è allenata bene è costruita bene deve cominciare a vincere perché comunque non è schiacciata da nessuno quindi questa è una squadra che è importante però alla fine per andare devi fare tre punti per quello che ti dico abbiamo fatto un attimo se tu mettiamo sulla bilancia cosa manca a una squadra che gioca bene perché grazie alle immagini di Moloni e grazie anche alle immagini di Agavarnese Calcio riusciamo sempre a vedere tutte le partite sia in casa che fuori cosa manca per portare a casa con la vittoria Omar Torri è bravo basta manca un giocatore del genere che faccia il reparto ce ne sono pochi anche perché lui PJ Foresti ha una squadra di pedalatori di lottatori le palle comunque arrivano in mezzo vedi che sono anche sfortunati colpi di testa sopra la traversa ci manca purtroppo ce n'è uno di Torri e quelli che c'erano attaccante forte Vicari nell'ultima stagione a Gavano aveva fatto molto bene anche l'anno scorso Aralmè in questo avvio di stagione sta mancando sta facendo pochi gol sicuramente è un limite poi la vittoria di San Giovanni Bianco che avevano detto sì adesso c'è questa c'è da lì da lì purtroppo non si ha perso Colazzano questo pareggio insomma è un po' si è un po' condizionata dalla classifica comunque stiamo vedendo tanto gioco perché l'abbiamo sempre detto tanto gioco da parte della Gavarnese ma purtroppo manca un po' con la vittoria che ti mette un po' di tranquillità adesso possiamo vedere anche invece l'altra partita quella che si giocava a Covo ieri c'erano mi smetti i velotti per noi di seguire questa partita si giocava Covo Pradalunghese un Covo che era davanti alla Pradalunghese la Pradalunghese arrivava in velocità arrivava di Torri importanti dalla sconfitta però di Coppa pronti via eccolo qua palla dentro di Fogaroli Torri si inventa e poi da lì questa è una vittoria pesante per il segnale che dava al campionato è vero che la Pradalunghese arrivava all'altra vittoria consecutive ma andava in casa di una delle avversarie più accreditate in estate se non la più accreditata e vince 4-0 fuori è un segnale davvero importante davanti il Covo a Guarigniello Donati non due qualsiasi è davvero una risposta importante la Pradalunghese adesso sta facendo davvero la Pradalunghese e alle 4 sconfitte di fila ha fatto seguire 4 vittorie consecutive quelle davanti non hanno tenuto una gran marcia e adesso la Pradalunghese da ultima che era 4 giornate fa è lì a ridosso della vetta quel suo secondo gol di Torri 4 vittorie consecutive dove la partita che si è andato meno è stato 3 gol se non sbaglio perché 3-3-3 è l'erroconzionato io non sono nello spogliettore di Pradalunghese però a vedere il cambiamento del trend il ribaltamento del trend improvviso repentino dalla sconfitta 2-0 a Cologno alle 4 vittorie nette successive mi fa pensare che forse un chiarimento speratorio c'è stato che forse qualcosa c'era che prima c'era qualcosa che non andava e adesso invece è tutto chiarito e la squadra rimane alla stessa parte aveva fatto anche il terzo Torri che gli è stato annullato per il fuorigioco dunque Paolo ha ragione di cercarmi e c'è questo Torri davanti però oggi ce ne sono pochi di Torri ce ne sono veramente pochi ascolta io vedendo le le bellissime immagini limpidissime professionali che abbiamo in questo studio sono qua dietro le quinta non lo so io a parte questo comunque abbiamo notato una cosa fondamentale Fogaroli 8-0 ha fatto lui è un fenomeno ha fatto far gol ha fatto due pennellate fantastiche Torri ha fatto l'uomo che conosciamo tutti la differenza in assoluta un animale d'aria un uomo che fa reparto da solo la Prada Lunghese ha fatto la Prada Lunghese cioè una squadra che è andata a lottare contro tutti è andata a fare a sportellate rischiando poco o nulla cosa vuoi dire vuol dire che Giovanni ha trovato secondo me la quadra giusta della sua squadra e adesso ci toglie delle soddisfazioni sta facendo il campionato che spetta questa Prada Lunghese cioè il campionato da vertice e gli auguro di andare avanti fino alla fine Pugazzi prima di sentire Astori Paolo ah no stai commentando i gol stai rivedendo i gol si no ha cacciato male qua a Bergamelli un gol eccezionale mamma mia che gol eccezionale e anche Bergamelli il cambio che ha avuto al di là di Fogaroli come ha detto Carminati e Tori ma nelle ultime quattro partite il cambio che ha avuto Bergamelli ha segnato 5-6 gol nell'ultima quattro partite non è una punta no no esatto ma questo è il rendimento che ci aspettavamo in estate detto questo per quello che però prima giocava a basso e adesso si al di là di cambiamenti tattici che sicuramente è pesato il motivo per cui io penso una spiegazione a livello proprio di gruppo riguardo a questo cambiamento è questa non può una squadra cambiare il rendimento così all'improvviso non può essere una questione fisica o di altro secondo me forse un giorno Stefano ce lo diranno ma sì guarda cosa sia realmente successo sicuramente se è possibile fra due o al massimo tre lunedici se la qua storico noi parleremo un po' di questa crescenda Bogazzi un organico del genere credo che possa già oggi fare l'eccellenza senza problemi senza grossi problemi ma proprio senza problemi diversi di questi l'hanno vinta l'anno scorso allora io credo che una squadra che possa disporre di Fogaroli Bergamelli Riva Torri Magitteri mi ricordo anche due giovani Fra Degrana Zanchi e Episch e gli altri perché erano stati un po' li avevamo seguiti anche noi poi abbiamo fatto scelte diverse poi c'è un centrale anche davanti al centrocampo che non è male che è un giovane e sono veramente bravi Zambetti Zambetti e io credo che il problema fosse di pressione e psicologico probabilmente quando sai che devi vincere per forza quando hai tutti gli occhi puntati addosso probabilmente non che magari pensavano già di vincere penso più penso più a un fattore fisico perché mi ricordo Bergamelli arrancava Fogaroli non sembrava lui Torri era in difficoltà ho visto Riva che secondo me erano dei migliori difensori che ci sono in giro andare in difficoltà in alcune giocate però Roberto il cambio dalle stalle alle stelle cioè ha perso due a tre repentino ha perso due a tre sette giorni è cambiato tutto allora penso che noi sospettiamo che ci sia qualcosa ma secondo me secondo me io dico la dirigente poi non posso parlare perché non conosco le dinamiche che ci sono in casa d'altri per cui io credo che loro avessero solo bisogno di un paio di risultati per sbroccarsi e davvero liberare il potenziale che hanno perché una squadra così non può andare in difficoltà con realtà della promozione che conosciamo poi per carità con rispetto di tutte le società e di tutte le cose però questi giocatori cioè fanno la differenza in eccellenza fanno la differenza in categorie importanti per cui credo che alla fine i valori tecnici quando ti sorregge un minimo di preparazione fisica poi vengono fuori e loro lo stanno dimostrando io adesso ho guardato le immagini ho visto dieci occasioni da gol e non puoi imputare al novantesimo Fogaroli realizza un gol potete accontentare da 3 a 0 contro una squadra dietro che è messa molto bene non conosco questo Cantù che è un 2001 sto portierino qua del Covo invece di chiedere a Manuel cioè non mi sembra a meno che abbia qualche problema però andare a far dominare Covo alla grande e tanta roba è stata importante sentiamolo dai Astoria fine partita insieme a Mismetti Mister Astori è squalificato qua in tribuna comunque a dare suggerimenti ai propri giocatori una grande vittoria un 4 a 0 che ci sta tutto ma devo fare i complimenti ai ragazzi perché penso che oggi abbiano interpretato la gara con l'attenzione e la convinzione giusta oserei dire che il risultato è persino stretto perché io ho contato almeno 8 o 9 azioni da gol che abbiamo saputo creare soprattutto nel primo tempo poi nel secondo tempo si è stati bravi subito a portarla sul 3 a 0 per poi chiuderla in parte finale comunque complimenti perché oggi ho visto una squadra attenta determinata come noi dobbiamo essere per poter fare risultato ma oggi si è stati bravi perché abbiamo concesso poco veramente poco e si è stati comunque abbiamo giocato secondo me su un campo a limiti della praticabilità pure un calcio tecnico con delle belle azioni orchestrate per cui devo solo fare i miei complimenti perché dopo la sconfinta di Coppa che sicuramente ci brucia come mai abbiamo fatto subito abbiamo dato una prova di forza per dire a questo campionato che ci siamo anche noi allora io sull'inizio non vorrei ritornarci perché è una ferita aperta ancora perché abbiamo perso quelle quattro gare consecutive vi posso garantire che ci abbiamo messo del nostro ma c'è stato anche una buona dose di sfortuna sicuramente noi non stiamo rubando nulla quello che facciamo lo conquistiamo sul campo oggi è lampante una partita poteva finire veramente con un risultato tennistico per cui ripeto da oggi comincia il nostro campionato anche perché non possiamo nascondersi il nostro obiettivo è quello di arrivare il prima possibile fra i primi posti questa è una storia una storia già diversa un po' più rilassata un po' più tranquilla sempre carico perché ha bisogno di continuare con questa carica la formazione di Prada Lunga che vedremo anche domenica quando giocherà in casa io adesso andrei invece sulla prima categoria perché qua abbiamo due partite a andare poi a vedere vediamo anche la seconda categoria ad andarci a analizzare i risultati sono questi con l'Alme che continua a essere Alme va a mozzo e vince anche a mozzo 2 a 0 e l'aveva fatto solo la Virtus Overe in questa stagione finora l'Alfalco batte in certa misura ma sembra che invece dalla cronaca molto di più l'Atletico Sarno comunque il risultato è 1 a 0 vince la Torre Piera scontro a Sellero fra Sellero Zognese e Sellero recuperata 2 a 2 perde Netto in casa la Virtus Overe contro le Cenate 4 a 1 e vince Netto il palladina del nuovo mister da tre settimane il nuovo mister sì quei risultati davvero tanti sorprendenti come il Val Cavallina a Sarnico esatto il Val Cavallina che l'aveva presi 6 in casa dal Cellero è andato a vincere 4 a 0 a Sarnico che è vero in difficoltà ma era comunque uno sconto diretto per la salvezza per quanto riguarda invece l'Alme è detto giustamente tu un'altra vittoria contro il Mozzo che è una sorpresa la vediamo 15 punti di classifica è davvero un passo importante per quanto riguarda la Falco è vero l'Atletico Sarnico non arrivava nel momento brillante però era potente fare il risultato da fatto anche se penso che il dato più significativo di ieri sia il palladina da quando ha cambiato mister dopo la sconfitta con Villadonia tre vittorie di fila tre vittorie nette ieri 4 a 0 dottore De Rovei che è una squadra lo sappiamo che ha ambizioni è davvero una risposta una risposta importante alcuni vicino al palladina mi hanno detto è arrivato il nuovo mister è arrivato il murigno della situazione e alcuni credi che c'erano prima che sai si sono un po' spaventati perché fare un allenamento più intenso questo vuole molta più intensità una squadra che è partita con l'obiettivo di vincere è anche giusto che sia così dunque chi probabilmente non se la sente è meglio che lasci la borsa e se ne vada anche se è un giocatore importante però la squadra una settimana tre vittorie nel recupero 4-0 ieri in una vittoria importante a Torre De Rovei 4-0 non su un campo qualunque ma l'ha fatto a Torre De Rovei qua stiamo vedendo tanta Falco come abbiamo detto era un attetico sarnico dopo la prima posizione della classifica tre sconfitte consecutive esatto aveva comunque già da un momento poco brillante però anche la Falco nelle ultime non aveva fatto benissimo non regolare perché la posizione era regolare quella di Franchini sì gol d'attaccante vero grazie se lo riguarda su Franchini è un pezzo di cuore poi vediamo ancora Falco che attacca insomma infatti come è stato segnalato qua l'attraverso se non sbaglio ancora di Franchini insomma tante tante occasioni da parte della Falco come è stato detto come è un assedio un dominio assoluto 1-0 è stato proprio 1-0 è che quasi rischi poi al novantesimo eh certo perché sei su 1-0 non sei così sicuro vedi una palla dentro magari se sbagli succede che magari subisci anche il pareggio sarebbe stato clamoroso insomma queste sono immagini Stefano sta dicendo sì no per chiudere il discorso riguando le squadre di lotta per la salvezza Villadogna campo impraticabile non ha giocato mentre la sfida tra Celero e Zognese è terminata con un 2-2 penso che un punto serva poco ad entrambi però il Celero era sotto di due gol a vela recuperata anche a livello morale può essere una buona spinta poi andremo a parlare ovviamente anche di Virtus Lovre e Cenate questo praticamente siamo sul finale grazie a Luca Giudici per le immagini tra Falco e Atletico Sarnico e sentiamo dai prima andare in pubblicità tanto è veloce sentiamo anche un altro amico di Carminati ma ormai sono tanti gli amici di Carminati il portiere della Falco parliamo di Feltri pubblicità esattamente sì ma è stata molto sofferta oggi infatti abbia rischiato comunque molto è durata molto la partita e abbia rischiato di prendere comunque 1-1 è andata bene ci teniamo in tasca questi tre punti che servono per il morale per la classifica per tutto per continuare questo campionato è un Feltri che si sta riscattando alla grande in questo campionato in una Falco che insomma qualcosa di più può fare ancora cambi poi andiamo in città ma certo ma questo è importante cioè la Falco deve fare un camionato alla vertice a partire da lui fino a Franchini ecco cioè sono una grande squadra questi un po' distante però 16-25 ma è lunga ma è lunga ma è lunga ma tu non hai presente che siamo ti ricordo che siamo al 4 di novembre cioè qua può succedere di tutto e più di tutto e quindi come ti diceva il direttore poi andiamo a Sanofelix se non mi dà più la pizza stasera ti volevo dire poi basta 4 partite che puoi invertire la rotta quindi parti da meno 9 però con un Almeh che ha fatto un pareggio poi l'ha vinta tutte dai pubblicità poi rientriamo ancora con la prima categoria l'ultimo blocco per i tempi supplementari torniamo in diretta ci stiamo giocando un po' la schedina l'abbiamo compilata tutta fra poco Stefano andiamo sei sotto mano ti do ancora un pochettino di tempo sì spero di scrivere quella al direttore anche se è un esercizio inutile perché Carminati è straordinato è di un altro pianeta voi fatela sempre non c'è problema siamo come zulle sulla mamolada destinati al crollo sai quanti milioni di euro ha fatto arrivato esatto qua con noi Paulina Mattina Maria dai immagini la Virtus Lovere mentre Stefano si iscrive anche l'ultima schedina quella del direttore generale del Bino Cantino vediamo le immagini questa sconfitta netta oddio netta sì netta comunque 4-1 la Virtus Lovere col cenate sotto 4-1 è netta Arnaldo è netta è netta anche perché non può dirlo no 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 poteva essere anche di più tanto per dirti però dopo 2-0 la rivi aperta perché al 2-1 c'è stato quei 10 minuti fatto stag poi entra il secondo tempo e l'ha gettata via ancora questa partita è ovvio mentre qua ci vediamo un po' di immagini la Virtus Lovere è maglia scura cioè nera questo è il gol chiedo a te Carmi ovvio le presenze sono un po' da lontano questo è il primo gol da parte del cenate se Poetini poteva fare meglio perché allora la palla è la sotterra il campo vedete è buono perché è un sintetico veramente ieri ha retto tantissimo anzi è più bello di quando è secco la conclusione non mi sembra così potente è vero che sul primo pallo era sotterra era forse coperto quello davanti gli spacca dei visuali quello davanti gli fa perdere il secondo di buttarsi cioè quello davanti giustamente per guardare gli ha fatto perdere la parata ce l'ha sempre davanti io fossi stato io da dietro gli avrei urlato volgarmente di spostarsi perché lui deve vedere la palla partire lui giustamente il difensore sta seguendo l'azione quindi è concentrato esatto è proprio dritto sulla palla il difensore poi è bravo a calciare la sotterra capito ma si butta già dentro cioè non l'ha è troppo bravo questo è l'1-0 che arriva dopo una partita abbastanza equilibrata fino a quel punto lì però vedevi che è un cenate che era messo bene e dopo iniziare a parlarne forse al vittusore per me questo modulo non riesce a sopportarlo questo modulo a tre punte davanti poi comincia a creare qualcosina Romero uno dei pochi positivi lì davanti ieri però mi dovrebbe aver tempo ne parleremo magari Censi lunedì prossimo qua con noi direttore sportivo Sergio Censi qua con noi magari ne parleremo un po' meglio di questa situazione questo è ancora il cenate vediamo cosa ho ripreso perché non mi ricordo più neanche cosa ho ripreso non so se è il gol del 2-0 sì a calcio di punizione e questo Carmine guardando anche te per me è una gran punizione penso che qua Poettini poteva farci poco sopra la barriera sul pallo al coperto non può fare niente è come quella di Bellina insomma esatto quando il partire prende i gol possiamo dire poteva arrivarsi ma non è mai colpa sua cioè la prima cosa anche perché calcia bene calcia proprio bene la prima cosa ti insegnano e non prende il gol sul tuo palo questo è un euro goal cioè diamogli un merito che ha fatto un super goal e guarda che stava arrivando l'Abrek questo ha fatto un colpo un colpo di problema non è che l'ha calciata bene poi che parte magari un po' lontano meglio la coprirà il suo palo è ovvio che non può essere più centrale poi prova la Vitusovra è buono Bertoletti ancora sull'esterno e secondo me questa Vitusovra non me ne voglio anche perché lo conosco bene per me Cortali che è stato uno dei migliori difensori l'anno scorso centrali o anche esterno-destro questa è un'occasione che poi invece viene salvata sulla linea a parte di Vitusovra quest'anno non è Cortali l'anno scorso sta faticando non solo la centrale adesso l'ha spostato a destra con Zucchelli questo è il gol di Gelfi che ha riaperto un po' i giochi ma sta soffrendo anche là perché abbiamo visto il primo gol quello che abbiamo citato prima arriva comunque da destra su un falo laterale e gli altri due gol che arriveranno inizio del secondo tempo arrivano tanto da destra dove il Cenate ha battuto tanto meno invece qua a sinistra parla dentro Molinari di testa la spizza Gelfi lì sotto porta l'appoggia praticamente in porta questo è il finale di primo tempo poi si aprirà nella ripresa e anche il Cenate la chiude di questo fuorigioco perché potrà fare anche il fermo immagine quel giocatore è davanti a tutti e dunque ha dato fastidio prova ancora sul calcio di punizione qua è una cortale spinta a portiere si fa male dobbiamo anche dire che non è un momento fortunato per la Vitusovra facciamo le condolianze ovviamente a Michele Vigani il difensore della formazione a Vitusovra che improvvisamente purtroppo ha avuto l'assenza del papà sabato ma lo improvviso ha portato via il loro papà dunque a Vitusovra ha voluto stringersi anche attorno al suo giocatore anche noi facciamo le condolianze qua poi arriva il 3-1 si diceva fuorigioco perché se torna dentro Ferri se riesce a tornare dietro lo vediamo a rallenti questo giocatore davanti a tutti nettamente Mazzano che è l'altra punta mentre lui che segna praticamente davanti a tutti lo vediamo adesso la palla è corta Mazzano la poggia su c'è un tocco del difensore infatti quello che poi stava arrivando è qua che se non sbaglio è Molinari che va a toccare la palla e va a rimetterlo in gioco ieri dicevamo no è fuorigioco netto il tocco è piuttosto fortuito esatto pensavamo un tocco fortuito del difensore e invece il difensore il centrocampista in questo caso che va a cercare di giocare la palla ma a prescindere per il direttore di gara è difficile fare queste valutazioni che poi è stata esatta non avendo i collaboratori e essendo stata esatta perché poi proprio il direttore di gara va a dire l'allenatore è stato un vostro giocatore di metterlo in gioco dunque torno a ripetere è stato punzecchiato abbastanza sia dal cenate che dal vizio di gara e questo arbitro come si fa di solito perché purtroppo si fa di solito io invece faccio i complimenti a questo direttore di gara perché è sempre presente ha tenuto abbastanza bene in mano la partita l'unico dubbio era questo e invece il fuorigioco ha avuto ragione ancora dal direttore di gara e senza guardaline io guardando i giocatori della Virtus Lover mi sembra di vedere delle statuine del presepe con un paio di mesi d'anticipo vedi una squadra ho visto anche delle ripartenze in cui loro andavano veramente al doppio della velocità e vedrai tante ripartenze vedrai tante ripartenze anche dopo alcune non me ne ho messo perché ce n'erano tante ma tante volte ce n'è nata soprattutto dopo il 4-1 si è presentato davanti alla porta anche lì il gol che abbiamo visto del 4-1 ha giocato palla la sinistra ha tornato indietro la rimessa ha andato giù ha appoggiato a quello dietro e poi dentro Mazza praticamente era solo questo il gol Mazza era solo l'appoggia in porta bello se vuoi da parte del Senate dalla Virtus Lover non so quanto bello possa essere si è il secondo stop consecutivo rilevante l'anno scorso è vero che il cambio di passo l'ha fatto dalla decima l'andata in poi vincendo una serie consecutiva di partite importante però anche nelle prime aveva dato segnali significativi quest'anno invece sta faticando chiederemo a lui se è un po' come per il Casazza perché sembra un po' per il Casazza che non poteva sopportare per me il modulo tra i punti davanti la stessa Virtus Lover dovrebbe forse rinforzare di più un centrocampo dove ci sono dei buoni intenditori interditori manca può essere rilosi il fantasista e magari giocare a due punte e lasciare fuori una punta si non avendola mai vista dal vivo esatto questo lo chiederemo poi ovvio da fuori è facile parlarne è ovvio che il mister li vede anche sul campo in allenamento e il mister lo sentiamo a fine partita purtroppo la vita da questi dispiaceri oggi la partita contava fino a un certo punto siamo vicini a Michele anzi adesso appena vado via dal campo vado a trovarlo è una cosa bruttissima però cercheremo di starle vicino e insieme cercheremo di farlo uscire da questo momento lui è forte e sono sicuro che riuscirà a uscirne purtroppo quest'anno non siamo ancora riusciti a trovare la quadra non ragioniamo da squadra regaliamo troppo e quando regali contro squadre forti giustamente loro ti puniscono adesso c'è solo da lavorare testa bassa lavorare cercare di uscire il prima possibile da questo periodo perché la classifica non ci aspetta e anche quella dietro adesso riescono a vincere quindi bisogna lavorare lavorare e guardare avanti con fiducia questo campionato è equilibrato ogni partita è una battaglia se non la fronti con la giusta testa rischi di perdere sia che incontri la prima sia che incontri l'ultima quindi adesso dobbiamo veramente unirci compattarci lavorare bene in settimana e sperare che le cose girino perché quest'anno sinceramente ci sta girando tutto a storto sia dal campo sia extracampo quindi però col lavoro con l'unione dal gruppo che è la nostra forza sono sicuro che riusciremo a uscirne ma la partita quando perdi 4-1 uno non vede la partita può sembrare che sei stato dominato però la partita vive di episodi di momenti noi non siamo neanche partiti male se devo dire la sincera verità poi loro hanno trovato un gol hanno raddoppiato poco dopo e lì abbiamo avuto una grande forza di reazione perché comunque abbiamo fatto il 2-1 e fino alla fine del primo tempo eravamo noi al comando della partita poi siamo rientrati io sinceramente il 3-1 da lì dove ero non l'ho visto bene ma secondo il mio punto di vista c'era un fuorigioco abbastanza chilometrico l'arbitro ha giudicato la giocata del mio difensore come una giocata secondo me era un contrasto quindi c'era un fuorigioco però va bene così te l'ho detto è un periodo un po' così testa bassa lavorare ne usciremo più forti di prima Matteo Gualeni ovviamente abbiamo parlato del fatto piuttosto brutto che è caduto la vittura e poi il risultato vedremo poi cosa succederà la squadra ovviamente andrà sul campo di Gorle un Gorle che ieri non ha giocato perché a Di Lovogno non si è giocato è un Gorle che sta segnando tanti gol non sarà una partita semplice per una di Virtus Lovere che deve tornare a fare risultato perché i punti sono pochi anche per la formazione della Virtus Lovere con Villadogna che deve recuperare anche il suo incontro 5 minuti per parare seconda categoria andiamo a verci i risultati perché il Sovere balza ambetta la classifica risposta ha espugnato il campo di Leff e la formazione del Sovere come la Gandinese 3-0 contro l'Immacolata Alzano fuori casa Selvino e Rovetta era una partita tra due buonissime squadre è uscito questo 0-0 e fatto sta che il Sovere è andato a gacciare il Selvino in vetta la classifica Sovere 22 Selvino 22 e Gandinese a quota 20 col Bergamo Alta che anche lei non ha giocato la sua partita deve recuperarla potrebbe andare praticamente a quota 21 il Sovere si conferma quello di sempre solido cinico ha vinto un'altra volta grazie a Luca Giudici che sapete che lui sta sui campi della mattina la mattina dopo praticamente dobbiamo cercare di far giocare una partita anche l'8 la sera così sta lì direttamente Luca sta lì e fai anche la terza questa è Selvino ha giocato Alex Falco Selvino si avevo già letto sul giornale avevano già letto oggi al campo ho scelto prima Luca e Rovetta soprattutto nel secondo tempo ha giocato molto bene è finita 0-0 però probabilmente avrebbe aumentato qualcosa di più e non era certamente facile perché il Selvino nelle prime otto non ha vinte 7 quindi è una squadra che è davanti non per caso ha dei valori e i risultati lo dimostrano per quanto riguarda il sovrappunto dicevo in precedenza ennesima conferma vittoria importante della Gandinese che in trasferta stava zoppicando 3-0 secco mentre per quanto riguarda l'Alta Valle per quanto riguarda il Baradello terza sconfitta consecutiva quattro sconfitte nelle ultime cinque partite ha rallentato in maniera significativa domenica riceve l'ultima della classe e deve cercare di invertire il trend e per il Baradello sappiamo che l'obiettivo è la salvezza poco di più fare una salvezza tranquilla che in seconda è anche più facile perché sono due le squadre che retrocedono qua stiamo vedendo tanto Selvino Rovetta ti chiedo prima di passare anche a Paolo Luca è guarito adesso Rovetta ha avuto un inizio difficile tutti parlano di uno dei più bravi allenatori per la seconda categoria che è Rovetta sta inquadrando la squadra si ha pesato soprattutto ovviamente hanno pesato soprattutto le assenze Bratelli non stava bene Tussati non stava bene a Piani tuttora non è al 100% Crotti veniva dalla squadifica a Villarogna le prime non le ha giocate assenze importanti adesso poi ha trovato la quadratura penso anche che rispetto a Sovere a Gandinese abbia un organico inferiore si però abbiamo detto abbiamo visto a Cassivi che si sta delineando infatti Sovere e Selvino lì davanti che qualcosa hanno Gandinese subito dietro che qualcosa ha sono tutte squadre che partono e potrebbero per me una delle tre si aggiudica il campionato poi vedo un Nembrezio Rovetta che potrebbero fare la scalata sul Bergamo Alta infatti si devono affrontare anche Nembrezio Bergamo Alta non si è giocato ieri a Saletti mi sembra strano che il campo non era agibile però può essere se non hanno giocato l'arbitro non hanno giocato ieri sì penso che in zona playoff il Rovetta possa entrare ma ripeto se paragoniamo gli organici di quelle davanti sono di un altro pianeta purtroppo per Cassi non è riuscito ieri per il maltempo e le tribune ovvio di Villa di Serio non è facile riprendere la partita lo capiamo non abbiamo le immagini della Gandinese comunque la Gandinese che ha vinto 3 a 0 Sovere Paolo che adesso lo vediamo l'Ambetta la sua posizione io faccio il tifo per gli Sovere rispetto alle tre che hai detto e in Coppa neanche fa l'opposta adesso si affronteranno Seriate che è arrivato un Vetta nell'altro girone da ieri è in Vetta il Seriate nell'altro girone e Sovere sì sì sarà una sfida bellissima da qua alla fine perché sono tre formazioni quotate che sono anche molto complete sono imbottite di giocatori di esperienza allenate bene quindi veramente se dovessi scommettere avrei grosse difficoltà avete detto bene l'Irovetta sta secondo me rientrando ho trovato la quadratura giusta però occhio anche a Alex Celsior perché se arriva il giocatore che io penso si arriva l'asso potrebbe arrivare una clamoruta salvezza diretta no vabbè Carmi allora Sovere Gandinese eccetera Sovere ieri ha fatto una vittoria importante perché l'Effe l'abbiamo visto dalla schedina che davamo noi non era facile dargli il 2 era una partita quasi da 1x2 io ho dato 2 tu hai dato 2 io ho dato 2 ma più che altro a parte la battuta ho dato 2 per un discorso di rosa importante sapevo che era una ballida difficilissima infatti il risultato è il risultato di misura è un bel campionato sono contento anche perché comunque la io simpatizzo anche un po' per la Gandinese ma è vero sono due squadre veramente è bello perché sono diverse Gandinese mitraglia perché questa quando vince vince tra 0-6-1 eccetera è Sovere quasi più pratico anche l'altra domenica scorsa 2-1 sono due squadre sprecate qua stiamo dicendo una cosa importante senza nulla toglia a Nembrese ma sono due squadre sono due società che non sono sprecate qua io mi auguro che la Sovere vada a stravincere questa Coppa che vada avanti e mi auguro che passino tutti e due la categoria esatto tanto è vero che Sovere ha poi eliminato la Gandinese in Coppa si sono eliminate tra i loro due Scherina dai Stefano perché siamo in chiusura andiamo a leggere la Scherina pronto allora diciamo in sequenza dici te chi è giocatore Albino Gandino Sant'Angelo io e Paolo uno Luca il direttore X Vertovece Leon tutti uno Darfo Lumezzane tutti X Paolo uno il direttore ha dato X Albino Sant'Angelo sì abbiamo fatto la Scala la Scala la Scala la Scala sulla tua potevamo lasciarti l'1x2 perché sulla tua partita per cui ho letto X perché partiamo da lì al primo minuto si parte dall'X ok va bene allora faccio i numeri anch'io va bene ok Darfo Lumezzane tutti X Paolo uno poi Casazza uno Darfo Lumezzane una bella volta Paolo Andrei a Brino o Andrei a Darfo Andrei a Brino dobbiamo essere veloci sì va bene ok Casazza San Pellegrino Luca e Paolo uno direttore due io X Gavarnese Bergamo Longolo io e Luca uno direttore X Paolo due Paranghese Accademia Giardatta tutti uno Gorle Virtus Lovere tutti uno Luca due Loreto Sellero tutti uno Luca X Valcavallina Villa Donia io e il direttore X Paolo e Luca due io sarei proiettato andare a Valcavallina però Paladina Falco io e il direttore uno Luca due Paolo X Baradello Santommaso tutti uno Cene Selvino tutti due Luca X Gandinese Oratorio Alzanese tutti uno Rovetta Nembrese bella partita tutti uno il direttore X e Sovre Oratorio tutti uno questa è la nostra schienina il foglio poi me lo tengo io ha vinto facile anche stavolta il buon Luca Carminati ancora prima di giocare grazie Roberto Boraxi volevo fare una cosa ci tengo personalmente volevo salutare in diretta il nostro ex presidente Tonino Vosio che ha avuto un brutto incidente quest'estate ha passato veramente un brutto momento so che si sta riprendendo e so che quanto ci tiene ancora comunque alla alla nostra squadra quanto c'è vicino e noi gli siamo proprio vicino tutti in un forte abbraccio a lui alla moglie Rita e ai figli anche noi sicuramente a televisione ci tenevo a farlo perché non l'avete mai visto allo stadio perché a luglio ha avuto questo incidente e adesso stiamo aspettando veramente di poterlo vedere quanto prima ancora sulle tribune hai fatto benissimo perché anche noi in televisione hanno un storico presidente questo è veramente uno storico presidente Tonino Bosio della Gandinese grazie nel frattempo Bogazzi grazie a voi alla partita Paolo Picinelli Luca Carlinati Stefano Savoldelli e a chi ha lavorato in Italia del Quinte avvertitemi quando avete delle news di mercato esatto ti chiamo prima lei il nostro sponsor dietro praticamente che manda in onda la nostra ammissione e che ha mandato la nostra diretta ancora di tempi supplementari al buon Felix l'appuntamento è lunedì prossimo sempre con tempi supplementari a 20.10 ricordatevi sempre sui siti potete rivedere la nostra ammissione come tutte le nostre partite che vanno in onda grazie buona serata